degli internisti ospedalieri, la Fadoi, congresso che dopo due anni si tiene finalmente in presenza, anche se è una presenza limitata, ma è sempre una cosa molto importante, è un'emozione sostanzialmente rivederci in faccia, sentire il brusio della sala. Negli ultimi due anni per ragione di Covid si è tenuto il congresso in modo virtuale ed sono stati molto bravi il Consiglio e il Presidente a mantenere la continuità della nostra attività scientifica. Il congresso virtuale ha sicuramente dei meriti, tra l'altro ha migliorato anche le capacità di confrontarsi e di utilizzare la tecnologia degli internisti, ma una cosa che la tecnologia purtroppo non ha è l'emozione, la tecnologia non prevede l'emozione, la tecnologia la rifiuta perché è razionalità, è razionalità continua, non prevede la cosa e invece l'emozione fa parte della vita dell'uomo ancora prima della razionalità. I tempi sono molto stretti, io do subito la parola al mio amico Salvatore di Rosa, amico di sempre, per un saluto e per le sue considerazioni. Grazie carissimi amiche ed amici, colleghi. Intanto ringraziamo il nostro Presidente Dario Manferlotto che nonostante il tempo che passa ha sempre questa attenzione nei riguardi di due vecchi praticamente, siamo ormai due vecchi Dario, e quindi è quasi un rispetto alla senescenza, non soltanto alla storia della Fadoi. Io credo che il 26esimo congresso nazionale Fadoi sia una conquista, il che vuol dire che da 26 anni, ma è ancora di più perché noi abbiamo cominciato ancora prima, c'è stato anche un precongresso a Napoli per esempio, quindi da 27-28, insomma dal 1991 che questa società ha preso le mosse grazie a Sandro Fontana, io che facevo il suo portatore d'acqua, quindi in realtà è una società che è cresciuta e i vari Presidenti che si sono succeduti uno dopo l'altro hanno portato ognuno non solo il proprio contributo, ma anche hanno dato l'impronta che è legata alla loro professionalità e personalità. L'impronta che adesso abbiamo è quella di un Dario Manvellotto che ha fatto di questa società una icona di visibilità e di trasparenza, perché la nostra è una società trasparente che ha una sola finalità, l'essere amici tra noi e fare del bene agli altri formando professionisti e aggiornandoli continuamente. Quindi grazie Dario anche del tuo contributo. Detto ciò mi vorrei prolungare ancora, ma siccome i tempi sono televisivi, mi ha detto Dario Manvellotto mi devo limitare, e allora diamo subito la parola a Massimo Alessandri che è il Presidente della Fadoi Toscana. Voglio ricordare che la Toscana è stata tra le regioni, assieme alla Sicilia, al Piemonte e poi alla Toscana, che sono state quelle che hanno iniziato insieme il percorso che poi ha formato la Federazione. Quindi hai anche una responsabilità ben precisa. Hai pure tu i tempi televisivi, quindi mi dispiace, comincia subito che sto per chiudere il telefono. Grazie allora ai due Presidenti che mi hanno dato la parola. Ringrazio Dario per avermi dato l'opportunità, diciamo come padrone di casa, di aprire questo XXVI Congresso, così importante come è stato detto, proprio perché viene dopo un periodo, ci consente di ripartire in presenza, dopo un periodo terribile, diciamo che ha interessato e interessa tuttora, anche se speriamo che certe cose ce le siamo lasciate un po' alle spalle, l'intera umanità. E a me piace ricordare però che l'ultimo congresso in presenza è stato fatto proprio a Firenze, alla Fortezza d'Abbasso, due anni fa. E questo mi fa piacere ricordarlo perché io vorrei vivere questa cosa come una sorta di ripartenza. Ripartiamo dalla stessa città dove in qualche modo avevamo fatto l'ultimo congresso pre-Covid. Anche se Firenze è stata, come dire, sede di altri congressi e ha dimostrato sempre, io mi auguro anche questa volta, la sua capacità di accoglienza e abbia dato la possibilità a tutti di mostrare diciamo la sua bellezza artistica. Una bellezza che io voglio qui ricordare in un'opera d'arte che non è un'icona proprio di quelle che vengono utilizzate per rappresentare Firenze ma ve lo consiglio perché voi sapete che la Galleria degli Uffizi è stata ristrutturata e questo nella Galleria degli Uffizi troverete cose meravigliose come l'unica opera su tela di Michelangelo Bonarroti, il cosiddetto Ton Dodoni. Però proprio per riprendere le parole e lo spunto che mi ha dato Salvatore, io voglio anche in qualche modo ricordare che la Fadoi Toscana è un'associazione che si sente parte di questa storia meravigliosa che è, diciamo, la storia della nascita della Fadoi. E parlando con Claudio Pedace che forse tutti voi lo riconoscete, è stato uno dei presidenti della Fadoi Toscana sicuramente più importanti e segretario nazionale della Fadoi durante la presidenza di Ido Iori si è parlato un po' di questa storia e lui mi ha ricordato di questa pubblicazione del 2005 che in qualche modo celebrava la Fadoi, il periodo decennale della Fadoi a cura di Ido Iori va bene, allora presidente, e del giornalista Luciano Ragno e leggendo questo libretto, diciamo, questa pubblicazione ho trovato una cosa molto interessante. Cioè nell'intervista che Luciano Ragno fece appunto a Sandro Fontana e in questa intervista cosa si diceva? Che alla metà degli anni Ottanta Sandro Fontana, primario internista a Biella, venne a sapere che in Toscana un gruppo di internisti si sta associando perché intende dar vita ad un movimento. E cosa fa? Questi medici non nascondono un senso di frustrazione perché la medicina interna ha sempre meno spazio all'interno degli ospedali a vantaggio delle altre specialità mediche e quindi si pone questo problema di dove deve andare la medicina interna. È un problema a cui spinto, diciamo, da questa iniziativa della Toscana, lui porta, diciamo, a compimento invece l'associazione dei primari ospedaliari internisti piemontesi a POIP, se non mi sbaglio, e da lì parte la storia di tutta la Fadoia. Questo aneddoto mi è piaciuto ricordarlo perché siamo a Firenze e perché come ha detto appunto Salvatore la Fadoia Toscana ha svolto un ruolo. Ed è quindi con l'augurio a noi tutti, ai partecipanti, ai moderatori, ai relatori, a tutti gli invitati che ci aspetti, diciamo, che questo congresso riesca e riuscirà come tutti i congressi Fadoi, ma che ci aspetti, come dire, un futuro sicuramente migliore ed è questo l'augurio che tutti i membri del Consiglio Direttivo della Fadoia Toscana fanno a tutti voi e a tutti noi. Grazie. Abbiamo l'onore adesso di dare la parola per un saluto alla sua eminenza cardinale Giuseppe Betori, Arcivescovo della Firenze, la città che ci ospita per questo congresso. Gentili signore e signori, sono lieto di portare il mio saluto al vostro congresso e ringrazio il Presidente della Federazione, il Professor Dario Manfellotto, per l'invito che mi ha rivolto. Le mie parole partono da una constatazione positiva. Da diverso tempo, l'accento sul miglioramento delle cure in medicina include quello sulla necessità di una rinnovata integralità della cura, un modo di curare la persona malata, cioè che superi sia il riduzionismo biologico che la funzione funzionalista ristretta della persona. Questo nuovo approccio richiede consapevolezza nei curanti, tempo dedicato alla relazione di cura nell'organizzazione del lavoro, nota espressione il tempo dedicato alla comunicazione medico-paziente è tempo di cura. Infine, formazione adeguata in tutto il personale. Aiuta questa visione anche a superare l'eccessiva focalizzazione su problemi della autodeterminazione a favore di una visione più ampia dell'atto medico, che include i suoi aspetti sociali, politici, economici, come richiede il recente affermarsi in una proposta di bioetica globale, davvero capace di confrontarsi col cambiamento d'epoca anche in campo medico. La pandemia che ancora stiamo affrontando ha mostrato quante difficoltà si incontrino nell'emergenza a conservare anche gli aspetti più basilari di una cura integrale, come quello che privilegia la relazione con i familiari, come momento essenziale della cura, entrata particolarmente in crisi con il Covid. E guarda l'assistenza religiosa presente nei nostri ospedali come modello per un'assistenza spirituale integrata nei piani di cura. Questo si realizza più spesso, anche se in modo ancora insoddisfacente, perché disomogeneo, in situazioni di cronicità e in modo particolare nel settore emergente delle cure dedicate alla fase ultima della vita, ormai note come cure palliative. Come Dioci stiamo collaborando con l'ospedale pediatrico Mayer per istituire un hospice per i bambini in fase terminale. Ma anche nelle situazioni più acute, come nelle terapie intensive d'anni, un movimento spontaneo emerso dai curanti richiede da tempo una maggiore apertura e partecipazione dei familiari, dimostrando la conciliabilità di quest'approccio con una perfetta efficienza del sistema di cura. Insomma, rivolgersi a tutto l'uomo, sempre, ma a maggior ragione, quando la sua vita è in pericolo o ai suoi piani di vita, o quando i suoi piani di vita gli appaiono come interrotti e compromessi dall'apparire della malattia, è parte dell'atto medico, inteso come incontro tra due fiduce, quella del curante e quella del curato, e come relazione in tessuta di competenza, onestà, fiducia, capacità di altruismo. L'opera generosa dei medici nel periodo pandemico più grave ha ampiamente dimostrato, come tutte queste componenti della professione medica e delle altre professioni di cura, a partire da quella infermieristica, siano ben presenti e ampiamente condivise tra i nostri professionisti. Il sistema formativo dovrebbe per il futuro investire maggiormente su questo, valorizzare queste potenzialità, integrare meglio le dimensioni morali, spirituali, psicologiche, nella loro distinzione, nel percorso sempre più tecnico e attento alla dimensione biologica della vita umana, che lo stesso progresso delle medicine, delle biotecnologie impone, ma in modo unitario. Non mancano gli esempi virtuosi. I giovani medici, che si accingono a rinnovare completamente nel giro dei pochi anni, i nostri ospedali, come pure la medicina del territorio, chiedono questo. Una rinnovata attenzione all'umanesimo in medicina, all'importanza dei maestri nell'avvia una professione, all'approfondimento della propria interiorità e di come essa sia sollecitata dall'incontro con la sofferenza e l'aspettativa di guarigione, chiede il contributo di tutti, e una rilettura dell'atto medico e del sistema di cura verso appunto quello che ho chiamato all'inizio, una cura integrale. Le stesse difficoltà riscontrate nella popolazione ad apprezzare il grande sforzo della ricerca medica in occasione della pandemia indicano che senza un'attenzione voluta e consapevole a tutto l'uomo, alle sue esigenze di comunicazione, informazione trasparente, comprensione profonda del senso delle cose e della vita, vanno perdute le grandi occasioni di crescita umana presenti nell'ambito della cura. Nessun intervento esterno potrà realizzare un rinnovamento della medicina se non corrisponde una spinta innovatrice interna a una nuova visione delle tappe formative iniziali e di quelle successive, permanenti, a una valorizzazione della persona, del curante, oltre che delle sue capacità tecniche, a un riconoscimento integrale della persona del malato, mai avulso dalla sua rete familiare e di relazioni privilegiate. Il migliore adattamento possibile di fronte a un episodio morboso o anche solo, ma sarebbe troppo, poco, la migliore compliance alle misure terapeutiche proposte. Durante le fasi più acute della pandemia molti hanno avvertito, come in tutti i campi, venissimo spinti a cercare nuove modalità di interazione sociale, a riconoscere l'essenziale, a prendere consapevolezza maggiore dell'uso delle risorse, ad accettare la dimensione globale interconnessa di tanti aspetti della nostra vita, compresi quelli medici. Questo bisogno di rinnovamento e presa di consapevolezza non è meno acuto oggi che il pericolo pandemico nelle nostre società privilegiate quanto all'intervento vaccinale è meno acuto. L'invito per tutti è ad aprirsi, proprio attraverso la cura dei malati e la continua crescita delle capacità diagnostiche e terapeutiche a nuovi orizzonti, nuovi equilibri onesti ed inclusivi. Buon lavoro. Ringraziamo. Medico che non deve essere solo una persona con capacità tecniche ma capacità umane e capacità, una cultura più vasta per poter comprendere l'uomo che è una complessità. Grazie. Bene, grazie anche da parte mia al Cardinale Bettori che ha in realtà sottolineato anche un po' quello che è il ruolo dell'internista. Bene, adesso vi annuncio un video, il video messaggio del Ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha voluto essere presente anche con noi se non direttamente attraverso la tecnologia. Prego. Grazie. 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 Diciamo che insomma si fa attendere come tutti gli onorevoli, insomma. Ecco, prego. Buongiorno a tutti. Grazie per l'invito al Congresso Nazionale della Società Scientifica di Medicina Interna. Mi dispiace non essere con voi fisicamente ma gli impegni istituzionali non me lo consentono, ma ci tenevo a farvi arrivare un messaggio di incoraggiamento e anche di ringraziamento, di ringraziamento per il lavoro importante che ciascuno di voi ha svolto in questi mesi così difficili. Sono stati mesi senza precedenti che ci hanno consegnato una nuova centralità del Servizio Sanitario Nazionale. Io credo che in questi mesi così drammatici le persone, tutte le persone, chiaramente quelle che sono state ricoverate, quelle che sono state in qualche modo toccate direttamente perché c'è stato un familiare, ma anche tutti gli altri, chi semplicemente ha visto attraverso i media quello che è successo, si sono resi conto di quanto sia essenziale avere un Servizio Sanitario Nazionale forte e capace di rispondere alle esigenze di tutti. Per troppi anni le risorse impegnate sui nostri medici, infermieri, sui nostri ospedali, sui nostri studi, ambulatori, non sono state sufficienti. E un po' è passata l'idea che i soldi messi sulla sanità fossero semplici e spesa pubblica, alcune volte addirittura a spesa pubblica e improduttiva. Noi dobbiamo rovesciare questo schema e dobbiamo aprire una nuova stagione di investimenti dentro la consapevolezza che ogni euro che si mette sulla salute è il più grande investimento sulla qualità della vita delle persone. E io penso che questo sforzo, che è uno sforzo che deve fare tutto il Paese, non una parte di esso, abbia bisogno come non mai di un'interlocuzione costante con tutti i mondi, con gli ordini, con le professioni, con i sindacati e chiaramente con le società scientifiche che devono avere un ruolo centrale. E per questo penso che anche dal vostro congresso possa arrivare un messaggio che va nella direzione giusta, appunto quella di una nuova centralità della salute e di una nuova qualità degli investimenti. Dobbiamo mettere più risorse nella ricerca scientifica, nella ricerca medica, dobbiamo mettere a sistema le conoscenze, dobbiamo abbattere le barriere che ancora ci sono, ci sono persino dentro i Paesi, ma soprattutto tra Paesi diversi. E io penso che questo sia il nostro obiettivo principale e mi aspetto che dal vostro congresso, e ne sono sicuro, emergeranno idee, spunti, proposte che possano aiutarci a rendere ancora più forte questo progetto. Grazie e buon lavoro a tutti. Due sole paroline. Ringraziamo il Ministro che in ogni caso ha voluto darci un ingoraggiamento, come lo vi dice. Io credo che gli internisti hanno avuto anche il ruolo di ingoraggiare gli altri a continuare. E se lui dice datemi delle proposte, noi da anni cerchiamo di far capire alle istituzioni, quindi al Ministro della Salute, a tutto l'apparato burocratico che presiede anche a queste cose, che la medicina interna, i reparti di medicina interna, che vengono considerate di base, di base non vuol dire che sono così tanto per Dio, vuol dire che sono basilari. E invece noi ancora combattiamo sul versante del riconoscimento di questa nostra specialità, che è una specialità che, come diceva anche il Cardinale, è rivolta all'uomo nella sua unicità. Nonostante tutto ancora abbiamo i reparti di medicina interna che vengono considerati una specie di purgatorio, diciamo così, perché è come se non fosse una specialità e che addirittura abbiamo ancora i parametri donna catten, pensate, sul numero di letti con la presenza dei medici. Bene, una proposta gliela facciamo, gliela facciamo arrivare, che è quella di rivedere, come lui dice, dobbiamo rovisciare lo schema, cerchiamo di strappare questo schema e di rifarci praticamente uno schema che venga fatto però anche con l'aiuto degli esperti, perché che se ne dica, i politici non sono esperti ma si devono fidare anche delle società scientifiche, che l'ha detto pure lui. Detto ciò, io penso che condividiate, ritengo che condividiate questa proposta che facciamo al Ministro. Speriamo di fargliela arrivare, grazie al nostro Presidente Dario Manverlotto, sicuramente arriverà anche il nostro messaggio come proposta. Prego, Sandro. E adesso chiamiamo per un saluto la Dottoressa Gabriella Bordin, Presidente dell'Animo Nazionale, l'Associazione delle nostre collaboratrice, collaboratori. Buon pomeriggio a tutti. Corro il rischio di dire qualcosa di scontato, però non c'è... ...parlando dopo il Ministro Speranza. Il primo a essere in questa città, Firenze, è una città importante che è stata capitale d'Italia durante il Risorgimento, culla di cultura, di arte e di scienza. Una città che è sempre risorta dal passato, che si è evoluta ed è una città di innovazione. Quindi ha una valenza davvero importante ricominciare da qua, visto che poi l'ultimo convegno fatto in presenza appunto ci vedeva in questa città. Il secondo motivo è proprio quello di essere in presenza. Ancora una presenza limitata, ma ci sono molti colleghi che grazie alla tecnologia ci seguono da remoto. Quindi un primo barlume di speranza che il mondo continui, ricominci a girare come prima a livello delle nostre vite personali, professionali e disciplinari e di vita associativa. Non è stato facile durante questo periodo portare avanti l'attività dell'associazione, però molto è stato fatto grazie al nostro impegno, l'impegno dei soci e del direttivo. Soprattutto sono stati mantenuti i contatti istituzionali con Fadoi, ma ad esempio con la federazione. E mi dà la palla il dottor Di Rosa, perché appunto con la federazione stiamo proprio combattendo, abbiamo scritto una lettera, stiamo producendo un position paper dove vogliamo proprio scardinare dal linguaggio comune l'idea che le medicine siano reparti di base, che le competenze siano di base, piuttosto mi diamo all'altezza. Quindi il ringraziamento va ai soci e al direttivo per l'energia, ma un ringraziamento che non è scontato va sicuramente a Fadoi e al presidente Manfellotto, perché durante questo periodo ha mantenuto saldo il timone, ha mantenuto la rete e ha sempre coinvolto animo nelle diverse attività. E questo vuol dire anche riconoscere l'importanza e il valore della nostra professione. Un legame Fadoi-Animo molto forte, perché è un incontro di persone, di professionisti e di discipline. Stamattina abbiamo parlato di interdisciplinarietà, parleremo di complessità e di futuro. Quindi tutti argomenti molto importanti che rendono queste due giornate molto ricche di discussione e di creatività, solo come in Fadoi e Animo si respira. Per questo non mi resta che augurare a tutti un buon congresso e grazie ancora. Animo è stata la prima società che noi abbiamo aiutato a sorgere, che è associata a noi ed è stata un notevole vantaggio e fortuna per entrambe i gruppi, per i medici e per i nostri collaboratori. Grazie, dottoressa. E allora, prima c'era un applauso partito. Continuatelo. Gli applausi timidi sono così, bisogna essere più energici. Siccome io avrei il compito di presentare a questo uditorio il nostro Presidente per la sua relazione annuale, mi perdonerà se invece prima di lui possiamo chiamare un altro collega, a onore si causa, che è il grande professore Michele Mirabella, che è pure dottore in medicina, a onore si causa, al quale chiediamo anche di non dimenticare che anche a onore si causa implica una responsabilità proprio per quanto riguarda il medico per eccellenza e noi in maniera non presuntuosa, modestamente diciamo che il medico per eccellenza è l'internista. Quindi ti affiliamo subito. Prego. Prego Michele. Il fatto che io sia un improvvisatore... Non mi hai di bisogno. Vi ringrazio per avermi invitato. Mi sento un po' come mi sentii molti anni fa, troppi, al liceo, quando una professoressa diede il compito, traccia, Dante Alighieri, il sommo poeta dell'umanità prima ancora che dell'Italia, si colloca nella storia di tutti gli uomini e del globo come un protagonista indiscusso e sul piano teologico, e sul piano storico, eccetera, eccetera. La traccia era lunghissima. Svolgimento. Sono perfettamente d'accordo con lei, professoressa. Siccome ho l'abitudine di ascoltare le persone che parlano anche nei convegni, che dovrebbero essermi non proprio affini, ecco, con i quali posso avere una faticosa, anche se appassionata, familiarità, io posso dire soltanto che sono d'accordo su tutto quello che avete detto. E siccome ho ascoltato anche prima le testimonianze, quelle mandate da tecnologia, ho ascoltato per esempio la signora Caravaglia, mi ha convinto, pensavo che fossi in polemica dialettica con quelli di dopo, mi hanno convinto tutti, forse c'è un rischio. No, non c'è, perché io conosco perfettamente il Fadoi, sono amico personale del vostro Presidente, che ha tutta la mia stima. Una piccola considerazione, io ho sempre pensato che il medico di medicina interna sia una definizione del biglietto della visita, perché è una tautologia. Il medico è quello, è il medico di medicina interna prima di tutto, quello che ci accarezza o ci accarezzava quando si chiamava medico, anche medico di famiglia o medico condotto, quando il suo auscultarci diventava subitaneamente un'implicita carezza di solidarietà. Quando, come la mamma, che quando ti voleva misurare la febbre ti dava un bacio sulla fronte, o meglio, metteva le labbra sulla fronte, le teneva lì per qualche istante, culminava in un bacio questo incontro e dà la frase terribile, vai a scuola. Quello è il medico di medicina interna, per me, nella mia fantasia di cucciolo, di Pinocchio. È il medico che ti guarda e sa che dentro c'è un mondo. Lui lo conosce meglio di noi, che lo abitiamo, anzi che lo ricopriamo. Il mondo è fatto anche di piaghe, di dolori, di malattie, e lui le conosce. E lui ha il dovere e diritto di nascondere qualche volta il suo panico e di comunicarci come una preghiera alla sua ricetta. C'era un santo, che non mi ricordo più chi sia stato, che disse Beati voi, medici, che avete la possibilità di pregare Dio e di essergli vicino quando curato un infermo. È scritto a Firenze in una chiesa. Su eccellenza lo ricorderà meglio di me. Ho beccato l'eccellenza, no? Mi perdoni, ne dico un'altra se vuole. Ecco. Un disapertutto. Allora, nel mio lavoro di artista, che in teatro e nel spettacolo ha fatto tutto, mi è capitato di incontrare la medicina, che poi era un mio vecchio sogno di bambino, e guardate le coincidenze strane della vita. Dopo aver lavorato per 24 anni intorno al programma mio, che abbiamo inventato con altre persone, Elisir, un anno e mezzo di pazienza e mi hanno dato una laurea onore scausa. L'alexio magistrale consisteva proprio nell'analisi, nel racconto, nel racconto del medico di medicina interna. A me questo interna va a venire il dubbio che ci sia anche un medico di medicina esterna? No. C'è il medico e basta. Poi, se si vuole specializzare in altro, si accomode. Io continuerò a perorare la causa della varietà, dell'applicazione scientifica e della speculazione. Ma ricordiamoci che, ricordiamo tutti, che l'uomo vitruviano non è una misura filosofica o sociologica, è una misura umana. Lui può misurare, non soltanto sulla moneta da un euro, ma anche nella fantasia collettiva di migliaia e migliaia di anni, il perimetro che la provvidenza ci ha affidato in abitazione. Noi l'abbiamo presa in affitto. E voi dovremmo riconsegnarla così com'è. Se ascoltassero i medici di medicina interna, anche per guarire il pianeta dalle piaghe ecologiche che ha, non farebbero una lira di danno. Perché loro sanno cos'è l'armonia del corpo umano nel creato. Lo capì Leonardo, che prese l'uomo vitruviano a misura di tutte le cose della vita, compresa la spiritualità. Anche quella. E quella è talmente interna che non basta il medico. Qualche volta ci vuole il sacerdote. Qualche volta ci vuole lo psicanalista. Qualche volta ci vuole un amico. Ecco, io sono quello. Grazie. Anche se non era preordinato, insomma, che è stato così all'improvviso, come sempre, ha dimostrato di essere un grande osservatore, oltre che un mattatore vero e proprio. Adesso è il momento di dare la parola al nostro presidente. Io devo ricordare che Dario Manfellotto è stato presidente di un momento difficile per il Covid, ahimè, che lo ha costretto a lavorare doppiamente per realizzare, per continuare la missione della nostra FADOI, che poi in realtà è una vera e propria missione rivolta di tipo organizzativo e scientifico, rivolta a favore della sanità italiana. Perché noi siamo prevalentemente dei medici pubblici, e quindi adoriamo questo tipo di espressione. Io devo ricordare che Dario Manfellotto, in questi 26 anni, come avete visto, il 26esimo congresso nazionale, rappresenta il settimo presidente nazionale. perché praticamente c'è stato Fontana per primo, poi ci sono stato io, Ido Iori, Nanni Mattie, che devo dire non c'è più, e che mi piacerebbe che si ricordasse per la sua signorialità, non solo per la sua attenzione a tutti i compiti che gli venivano assegnati, anche da pasto presidente, per cui era sempre attento. Ahimè, la vita è così. Poi dopo Mattiei c'è stato Mazzone, poi Fontanella, che è anche il presidente della nostra fondazione, e adesso Dario Manfellotto. Carlo Nozzoli, Carlo Nozzoli, dopo Carlo, hai ragione. Eh, caro mio, vedi che... Poi a casa sua, Sandro, lo salti a casa sua, Firenze. No, Carlo Nozzoli l'ho dimenticato perché ha delle colpe. Scusami Carlo. No, no, sto scherzando. Tifoso della Fiorentina. Chiedo scusa, ma non avevo scritto Carlo Nozzoli, perché penso che ancora Carlo Nozzoli fosse così giovane da aspirare a fare di nuovo il presidente dopo dentali. Quindi solo per questo. Allora... Ho dimenticato molti ragazzi. Mauro, non mi dispiace Mauro. E allora ricomincio da capo. Fontana, Fontana, di Rosa. Se vuoi te li suggerisco io. Iori, Mattie, Carlo Nozzoli, Mauro... Chi l'ha detto Campanini? Ma che fa, mi suggerite? Se è arrivato... Avete capito che ho la memoria labile e mi suggeriscono, capito? Mauro Campanini... E Mazzone, 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 il mio amico Mazzone. Insomma abbiamo fatto una conclusione, come vedete, scusami Dario, come vedete, siamo così amici che ci possiamo permettere di dimenticarne qualcuno, tanto poi i conti ce li facciamo fuori. Allora, adesso, Dario Manvellotto. Dario Ieri era medico speziale. Eh certo. Era iscritto alla corporazione degli speziali. Sì, me l'hai detto ieri sera. Noi siamo invece medici preziosi, non da speziali. Allora, do la parola al nostro Presidente che ci traccerà, nonostante le difficoltà, io gli devo un ringraziamento e glielo dobbiamo tutti perché ha avuto uno dei compiti più difficili tra tutti i Presidenti. per cui vi invito a fare un applauso di incoraggiamento. Grazie. Non ho conflitti di interesse ovviamente ad affrontare questa relazione, così come prevede la legge. Questa è la diapositiva che sintetizza la mia relazione di oggi. Dove eravamo rimasti? La pandemia Covid-19, la fado delle sfide, gli internisti, la formazione, la ricerca e il futuro della medicina interna. Dove eravamo rimasti? Chi me lo ricordava stamattina? Era una frase famosa che disse il povero Enzo Tortora quando fu tolta la trasmissione perché fu incriminato per spaccio di droga e poi assolto, ma riprese la trasmissione. Dice, dove eravamo rimasti? Riprendendo Portobello, che è insomma una trasmissione della nostra infanzia. Eravamo rimasti l'anno scorso al primo congresso Smart Virtual della congressistica italiana che doveva essere previsto a maggio del 2020. L'abbiamo fatto a settembre, qualche giorno prima rispetto a quest'anno, il congresso virtuale 2020. Vedete anche il gabbiano che avevo fotografato al Foro di Roma ha la mascherina e eravamo 25 in uno studio televisivo sostanzialmente, 20-30 persone in aula e siamo arrivati a 20.000 collegati. Anche oggi siamo 250, forse 300, siamo un po' sforato Raffaella perché forse non siamo completamente uno su tre perché l'aula è di 900 posti credo che siamo un pochino di più però bello, bello rivedersi, bello stare di nuovo tutti quanti insieme come abbiamo detto. E tutto questo che noi abbiamo fatto anche quelle migliaia di persone che sono collegati, le migliaia di soci della Fadoi e tutto è possibile perché c'è un comitato esecutivo fortissimo con Andrea Fontanella, past president e presidente fondazione, Francesco Dentali prossimo presidente e così tutti gli altri componenti non elenco tutti i nomi ma insomma li conoscete benissimo così come abbiamo un consiglio direttivo con i 19 presidenti delle Fadoi regionali che sono sempre presenti nelle nostre cose e nelle nostre riunioni e nelle nostre iniziative e che sono la forza vera perché la Fadoi è una società federale capillare distribuita nel territorio ma ancora e questo è sua eminenza prima ha detto i maestri non dimentichiamo i maestri non li dimentichiamo sua eminenza sa bene e l'ha visto glielo ho spiegato prima che abbiamo sempre i nostri past president che sono qui fra noi i due fondatori di Rosa e Fontana e poi gli altri presidenti ecco per semplificarti il compito Totò te li potevo te li potevo proiettare prima avremmo avremmo risolto ma l'ho fatto apposta Dario certo e poi abbiamo ecco quest'anno è stato un anno in cui sono mancati sono morti molti amici Nanni Mathieu past president Marco Grandi Gigi Lussiani e Claudio Puoti non li dimentichiamo non dimentichiamo se vogliamo fare qualche ci alziamo in piedi per per ricordarli grazie inseriamoci abbiamo abbiamo anche dedicato a loro lunedì pomeriggio nella sessione dei premi Fadoi premi dedicati a loro con il loro nome pergamene di ricordo che consegneremo alle famiglie e cerchiamo sempre di onorare ci mancheranno e ci mancano ma non li dimentichiamo abbiamo detto che le nostre radici i nostri maestri non li dimentichiamo io non dimentico i miei maestri tant'è vero che avete visto che le aule di questo congresso sono dedicate a alcuni nomi questo è l'auditorium Cesare Frugoni Cesare Frugoni è stato il fondatore della clinica medica italiana della medicina interna italiana un grande della medicina tra l'altro vinse il primo concorso nel 1917 all'Arcispedale Santa Maria Nuova dove adesso siede nel suo studio l'amico Giancarlo Landini e quindi ha cominciato la sua carriera ospedaliera a Firenze e non era mio maestro perché è morto nel 1978 però era maestro dei miei maestri il professor Iandolo eccolo qui il professor Stocchi che mi ha insegnato a fare il dottore il professor Vulterini che mi ha insegnato a fare il dottore e anche il primario Iandolo mi ha insegnato a scrivere a fare i lavori a pubblicare e quindi vedete che la formazione quella dei maestri è importante va tenuta presente allora dove eravamo rimasti e le sfide la sfida del covid la sfida del covid vorrei dire l'abbiamo vinta non l'abbiamo affrontata molto bene non si dice l'abbiamo vinta perché bisogna incrociare le dita però ecco voi ricordate che ad aprile lo scorso anno facemmo questo osservatorio Fadoi nel quale vedemmo che stava succedendo aprile era cominciata a febbraio la pandemia e vedemmo che il 57,7 58% dei pazienti ricoverati in medicina erano erano covid e il 57% dei covid erano in medicina e poi siamo arrivati al 70% dei covid in medicina questo ha significato che i nostri reparti sono stati quasi completamente dedicati ai pazienti covid e questo per noi è stata una sfida una sfida importante che adesso poi siamo arrivati ad affrontare con le terapie e col vaccino per fortuna e noi mi piace dirlo e ricordarlo medici e infermieri di medicina interna sono vaccinati al 100% nel momento in cui qualcuno ancora discute o eccepisce ancora negli ospedali qualcuno purtroppo si dichiara no vax ni vax dubbio vax quello che sia noi siamo vaccinati al 100% un'altra sfida è quella del servizio sanitario nazionale del cosiddetto territorio dimenticando che il servizio sanitario nazionale è una filiera è un sistema di vasi comunicanti territorio pronto soccorso degenza posta acuzia territorio casa quindi è qualcosa di collegato se si blocca un vaso si blocca tutto il sistema quindi è inutile intervenire settorialmente su una parte piuttosto che su un'altra il ministro ha parlato dei fondi questo è uscito due giorni fa è il documento di economia e finanza quindi stato presentato dal primo ministro dal premier Draghi presidente del consiglio dove si vede che i soldi per la sanità questa è la spesa diciamo corrente perché la spesa straordinaria sarà il PNRR si va a 124 mila milioni di euro 6% sul PIL scende rispetto al PIL aumenta leggermente ma io non faccio l'economista sanitario io faccio il dottore come tutti voi quello che dico è che i soldi sì sono importanti però ci vuole un discorso un progetto dietro ci vogliono i soldi ma che ne facciamo di questi soldi allora più volte ho detto che andando a leggere il PNRR noi vediamo che molto si dedica al territorio si dedica al territorio anche creando questi ospedali di comunità 381 uno ogni 157 mila abitanti le case della comunità una ogni 46 mila le centrali operative territoriali una ogni 100 mila abitanti cioè una in ogni distretto allora io ho sempre detto questo è a mio avviso si trasforma in un accesso di burocrazia 600 centrali operative territoriali uno dietro al computer che dice Manfellotto fa questo Fontanella fa questo Di Rosa fa quest'altro come succede lo sappiamo e poi soprattutto le case della comunità forse sono una ridizione delle case della salute che quasi dappertutto non sono stati un successo e l'ospedale di comunità gestito con criteri che non si capisce forse gestito dagli infermieri forse con presenza di medici non si sa quali non si sa per quante ore al giorno beh è qualcosa tutta da definire io credo che qui sia un impegno grosso per cercare di portare nell'applicazione di quanto previsto il massimo il meglio che si possa ottenere per la medicina interna e per l'ospedale perché la sfida è sull'ospedale questi sono due fra gli ospedali più antichi del mondo l'hôtel l'hôtel d'hôtel di Parigi l'ospedale fate bene fratelli il mio ospedale all'isola Tiberina questo per dire che la medicina interna è quella realtà che noi conosciamo il 15% dei posti letto italiani sono in medicina su quasi 190.000 posti letto quasi 30.000 sono in medicina gli internisti sono 11.500 attivi siamo circa 9.000 da media 50 anni siamo grandini come internisti e le medicine interne sono i 1.052 ospedali su 1.137 28.000 posti letto come dicevo e poi c'è il concetto di area medica adesso l'agenas e anche noi durante il periodo pandemico ha coniato il concetto di area medica area non critica nella quale poi andavano i pazienti di covid perché se noi abbiamo 30.000 posti letto e siamo arrivati a ricoverare 40.000 50.000 pazienti anche l'area medica veniva allargata andando a cannibalizzare gli altri reparti quindi l'area medica considerando medicina pneumologia malattie effettive geriatria è diventata quasi di 40.000 posti letto l'area medica che è sul sito di Agenas che mette anche altri posti arriva addirittura a 55.000 vedete ma addirittura se noi andiamo ai dati dell'altro ieri i posti letto in area non critica Agenas dice 57.000 quindi sono stati comunque resi disponibili posti negli ospedali in reparti non di medicina abbiamo praticamente raddoppiato l'area medica è quello che ci ha portato poi a dire lo scorso anno che noi abbiamo avuto un'occupazione che non era il 40% come si diceva ma era il 100% perché il 100% in medicina più i posti letto negli altri reparti ed è quello che ci ha portato a pubblicare anche perché abbiamo pubblicato tanto su questo sulla riorganizzazione in cui dicevamo che gli internisti devono essere di riferimento di guida che il modello dell'ospedale deve essere modificato e che può svolgere un ruolo strategico in tutte le condizioni dopo lo tsunami della pandemia anche in qualunque eventualità potesse verificarsi e poi questa anche gli americani usano questo termine bruttissimo resilience questa possibilità che l'ospedale stimolare la resilience quindi la duttilità degli ospedali che possano in qualche modo adattarsi alle condizioni nuove su questo siamo intervenuti tante volte anche sui giornali perché poi bisogna essere presenti anche sui giornali per dire cosa deve essere l'ospedale l'ospedale deve restare al centro del villaggio sanitario come dobbiamo usare le risorse del PNRR come dobbiamo rinnovare la medicina interna due giorni fa sul Corriere delle Salute lo avete nella borsa congressuale c'è l'articolo che ho pubblicato proprio dedicando a come quale deve essere il progetto per la medicina interna e di questo progetto fa parte senz'altro la nostra proposta delle unità semi intensive che abbiamo condiviso con i cugini della Simi l'abbiamo condivisa presentata a tutte le regioni e le regioni hanno risposto bisogna insistere ma le regioni rispondono io invito sempre i presidenti regionali a battere il chiodo a stare a essere presenti a interloquire con le vostre realtà regionali assessori direttori generali commissioni sanità perché poi gutta cavat lapidem la regione Lombardia vedete ha istituito la rete della medicina interna è stato un successo enorme e qui nella commissione ci sono alcuni nomi della Fadoi Colombo Nino Mazzone Francesco Dentali Sergio Berra il presidente regionale Gigi Magnani e poi abbiamo anche dei nomi della medicina interna della Simi Chiara Cogliati Nicola Montano Benelli poi Maria Lorenza Mujesan che è universitaria e Guido Moreo quindi vedete questo è stato un risultato importante così come la regione Veneto perché la regione Veneto anche ha istituito un gruppo di lavoro per la terapia intensiva e la semi-intensiva nelle aree critiche considerando dice le unità di medicina interna hanno organizzato le aree semi-intensive a supporto le unità di terapia intensiva quindi riconoscendo quello che abbiamo detto e fatto e anche qui vedete ci sono i nomi e c'è il nome di Andrea Bonanome che è il direttore della medicina interna dell'ospedale San Giovanni Paolo del Veneto ed è presidente della Fadoi regionale dicevo l'agenas prima questo è stato anche il dato importante nel 2020 c'è stato un calo notevole dei ricoveri in medicina interna dei ricoveri in generale dei ricoveri in medicina interna noi abbiamo stimato sui dati e poi una stima preliminare che è stata veramente profetica condotta da Paolo Agner e da Andrea Montagnani nella quale poi è emerso che avevamo circa 550-650 mila ricoveri in meno rispetto all'anno precedente e i dati agenas l'hanno confermato i dati agenas sono usciti all'inizio cioè aprile-maggio e quindi ci hanno confermato una stima nostra che avevamo fatto in modo molto preciso e ancora sempre Paolina Agner ha documentato e calcolato stimato che dal 2018 al 2020 quindi lo scorso anno meno 70% di ricoveri in medicina interna nel 2018 periodo gennaio settembre 705 mila ricoveri nello stesso periodo di quest'anno 650 mila siamo sotto soltanto di 50 mila ricoveri quindi stiamo recuperando le medicine interne stanno recuperando tantissimo stiamo quasi allo stesso brutta parola produzione di assistenza nel corso di questo periodo dell'anno può darsi in questi tre mesi recupereremo ancora andremo al pareggio certo abbiamo appresso 500-600 mila ricoveri che non ci sono stati lo scorso anno però quest'anno stiamo veramente allo stesso livello e quindi un enorme lavoro che la medicina interna sta svolgendo perché la sfida con le istituzioni la medicina interna deve essere al centro del villaggio è un caso che ho detto appena sono diventato presidente è una cosa che sostengo della quale sono assolutamente convinto e per questo servono le collaborazioni istituzionali siamo presenti su tutti i tavoli con tutte le istituzioni istituto superiore di sanità consiglio superiore di sanità agenas abbiamo un protocollo d'intesa c'è un messaggio di Enrico Coscioni presidente di Agena che ricorda il protocollo d'intesa Agenas Fadoi con AIFA siamo intervenuti sulle note applicative sui farmaci respiratori sugli anticoagulanti con la federazione dei cardiologi e oncologi per un forum permanente sul servizio sanitario nazionale con la FISM e qui è rappresentata dal presidente Franco Vimercati nella commissione proprio su IRG e Covid in medicina interna con la FIASO sul profilo del middle manager con la Fondazione Italia in Salute di Federico Gelli facciamo parte del comitato scientifico e così anche siamo parte del comitato scientifico di questo centro di diritto sanitario presieduto dalla professoressa Sandulli e facciamo parte a tutti gli effetti della federazione europea della medicina interna altra sfida quella della comunicazione siamo in un momento in cui scrive Tom Nichols che ha scritto questo libro bellissimo è un docente di comunicazione a Harvard e Tom Nichols dice è morta la competenza sappiamo che uno vale uno uno legge su internet e dice scusi ma lei che dì è un cretino io ho letto quello che c'è scritto su Wikipedia quindi questo è purtroppo noi invece crediamo nella competenza e la premiamo due anni fa abbiamo dato il premio Fadoi a Silvio Garattini l'anno scorso l'abbiamo dato a Piero Angela per la sua capacità di divulgazione e comunicazione e quest'anno quest'anno l'abbiamo dato a Tony Fauci è stato un lavoro che è durato mesi però siamo riusciti a consegnare il premio a Fauci all'ambasciata americana italiana negli Stati Uniti dall'ambasciatrice Zappia noi eravamo Andrea ed io eravamo in collegamento televisivo l'ambasciatrice ha consegnato personalmente il premio e anche la targa nella quale scriviamo per il suo contributo enorme a promuovere la conoscenza medica l'esperienza clinica nel campo della medicina interna e delle malattie effettive dagli internisti italiani con gratitudine e apprezzamento per la sua grande fondamentale ispirazione nella loro pratica clinica ma lui ha risposto a queste nostre parole entusiastiche lo vedrete fra qualche minuto quando manderemo il video la sintesi di questa cerimonia che è durata mezz'ora noi abbiamo fatto cinque minuti poi ci sarà la lettura di Fauci che dice in questo primo minuto di questa di questa lettura dice io voglio ancora ringraziare il comitato sui cultivo della Fadoi per avermi selezionato per l'onore di avermi dato il premio io voglio anche esprimere il mio profondo rispetto alla gratitudine ai medici della Fadoi che sono stati sulla prima linea attraverso l'Italia durante la pandemia la vostra dedizione ai pazienti alla conoscenza medica è la compassion ieri sera discutevamo Michele come tradurre compassion non è compassione è l'empatia saper soffrire insieme entrare in sintonia con le persone la solidarietà un po' di più della solidarietà is simply amazing cioè l'aggettivo più forte che può dire un americano è amazing o terrific amazing è straordinario il mondo continua a beneficiare dal vostro contributo alla conoscenza clinica e alla ricerca che ha portato a migliorare le cure per i pazienti o COVID-19 questo detto da Tony Fauci francamente è una cosa che è imbarazzante e entusiasmante l'applauso abortisce immediatamente davanti a Paolo Russi e Luciano Fast e no invece se lo meritano perché sono loro che guidano la comunicazione di Fadoi sono il nostro ufficio stampa sono due professionisti straordinari e siamo presenti su tutti i giornali su tutte le televisioni in questo momento stanno scorrendo su tutte le agenzie dando la notizia perché stanno facendo veramente un lavoro eccellente la formazione Fadoi molto dobbiamo ovviamente ai nostri dipendenti che io ricordo la cosa siamo riusciti a salvaguardare il posto di lavoro di tutti i nostri dipendenti nonostante cassa integrazione abbiamo contribuito ad andare al 100% dello stipendio abbiamo mantenuto l'occupazione abbiamo fatto un grosso lavoro perché credevamo necessario che i nostri dipendenti collaboratori diciamo le persone che lavorano per Fadoi potessero essere essere sempre così della squadra e fanno un enorme lavoro per la formazione per la ricerca così come Planning fa un lavoro enorme per l'organizzazione questo congresso è così bello importante perché la Planning lo organizza come sapete da molti anni con grande competenza c'è un sito Fadoi estremamente importante frequentatissimo che tutti conoscete in cui un ampio spazio è occupato dai giovani Fadoi soprattutto la guida medica clinico pratica a Fadoi che è stata aggiornata settimanalmente a partire da marzo del 2020 quando non c'erano raccomandazioni in linee guida e abbiamo cominciato invece con questo lavoro aggiornato settimanalmente che diventa poi una pubblicazione un libro Covid-19 in clinical practice che è una pubblicazione basata proprio su questa pubblicazione quindi ai giovani Fadoi guidati da ombretta para veramente una grossa gratitudine il provider ECM della Fadoi è un provider ormai strutturato produciamo tantissima attività di formazione lo facevamo prima in presenza l'abbiamo fatto tantissimo in webinar in collegamento adesso lo stiamo facendo in ibrido speriamo di ripartire mantenendo le caratteristiche dell'ibrido parte in presenza e parte con questo strumento importante del collegamento faccio scorrere rapidamente alcune delle immagini dei tanti eventi dei tanti seminari dei tanti progetti che abbiamo realizzato in Italia e all'estero perché il Prometheus Study che è questo studio internazionale al quale hanno aderito sei paesi europei e altre tanti ne stanno per aderire con 17 centri ospedalieri e altri che arriveranno sullo scompenso cardiaco è un progetto di grandissima importanza che sta avendo un enorme successo ed ormai la penetrazione internazionale perché non è soltanto europea della nostra società scientifica tutta un'attività che ci ha portato ad avere sempre il riconoscimento come best provider per tanti anni nella formazione come fondazioni e quest'anno anche nel decennio la Fadoi è al secondo posto vedete quindi siamo medaglia d'argento come provider ECM abbiamo altri canali di aggiornamento la giornata Fadoi diretta da Giuliano Pinna con l'angolo dell'eneguida l'opinione dell'esperto il supporto dei giovani Fadoi e stiamo perfezionando un rapporto con Medicina Interna 33 che sarà un altro strumento di aggiornamento è un grosso canale lo conoscete che gira sul web e sul quale avremo noi la responsabilità scientifica e la direzione editoriale rimangono i nostri giornali l'Italian Journal e i quaderni per l'Italian Journal ci sarà una vita nuova perché purtroppo non siamo riusciti ad avere l'accreditamento su PubMed e quindi stiamo studiando una formula nuova per poter essere presenti nella lettura internazionale in modo più strutturato però l'attività produttiva di formazione passa anche attraverso questo straordinario volume pubblicato scritto da Mauro Campanini e Francesco Cipollini è un volume che verrà presentato più tardi oggi pomeriggio e voi l'avete già visto l'avete ricevuto chi non lo ha lo può comprare ma è veramente un volume è il volume che segnerà l'evoluzione della nuova semiotica quindi a Mauro e a Francesco ancora i miei ringraziamenti la ricerca sulla ricerca Fadoi ha sempre avuto un impegno grosso e abbiamo lavorato tanto negli ultimi due anni mi riferisco a questi siamo stati presenti sui tavoli della ricerca con documenti abbiamo ispirato anche il legislatore la Lorenzin i decreti Lorenzin sono nati negli incontri con noi e le nostre proposte abbiamo pubblicato su riviste internazionali proprio su questo tema e abbiamo anche realizzato tantissime altre pubblicazioni con le fondazioni la fondazione Roche che è diretta appunto dalla Gravaglia e Michele Cittavi Prima la fondazione Smith Klein e poi abbiamo delle partnership con l'università l'Unitelma che è la rete l'università telematica della Sapienza l'università di Roma e poi con Healthware Group e Pagine Mediche con le quali abbiamo ottenuto una partnership per migliorare avere delle piattaforme di digital health per la formazione e la ricerca che verranno anche presentate domani pomeriggio e io ringrazio la dottoressa Bilotta che ha voluto essere non la vedo però c'è la dottoressa Graziella Bilotta che è la CEO l'università delegato di Pagine Mediche per essere presente questa sera con noi il Dipartimento di Ricerca coordina 51 studi che abbiamo avuto 352 centri un'attività enorme l'anno scorso settembre 2020 su PubMed digitando Fadoi avevamo 64 risultati un anno dopo 76 quindi abbiamo pubblicato 12 lavori a nome Fadoi senza dimenticare tutti quegli altri che pubblicano sono Fadoi ma non mettono centro studi Fadoi ma pubblicano e sono comunque grossi esponenti Fadoi abbiamo una pubblicistica enorme vedete qui faccio scorrere ancora rapidamente 2020-2021 molto di tromboembolismo che è tradizionalmente uno dei temi forti sull'infezione da virus C sulla telemedicina pubblicato ieri un lavoro coordinato da Filomena Pietrantonio sulle malattie infettive sulla candidemia in press sulla fisiopatologia del Covid questi lavori di Nicola Mummoli Antonino e Nino Mazzone di Carlo Nozzoli lavori importanti che hanno veramente segnato anche la conoscenza sul Covid e poi sull'organizzazione ospedaliera sull'ospedalizzazione per le malattie infettive sulle caratteristiche degli ospedali durante il Covid e non solo sulle SDO su nostra esperienza in prima linea sull'affrontare il diabete nel Covid sulle dilefferenze di genere col lavoro del gruppo coordinato da Cecilia Politi l'anno scorso abbiamo pubblicato su New England Journal of Medicine il top della pubblicistica internazionale medica questo lavoro lo studio Caravaggio è un lavoro molto importante frutto del tutto gestito di cui il Fadoi è proprietario gestore e principal investigator e poi tutte le pubblicazioni che ne sono venute tutti i sub studies che ne hanno fatto seguito sul sanguinamento dei pazienti con tromboembolismo associato al cancro sulla funzione renale in questi pazienti e così via sono usciti parecchi studi e altri sono in corso così come abbiamo pubblicato con EFIM la società europea sulla point of care ultrasound sulla sepsi sulle linee guida per gli internisti di clinica pratica e poi anche l'implementazione di Less is More tema sul quale il nostro Roberto Frediani da sempre è molto attivo e ancora vedete abbiamo pubblicato tantissimi tanti lavori sono submitted e quindi sono in fase di referaggio o addirittura già accettati e in pubblicazione abbiamo studi clinici appena conclusi il cui database è stato è in corso di analisi RICO registro start e prolapse studi clinici ancora in corso vedete qui elencati altri molto promettenti e studi clinici in fase di start up lo studio recovery lo studio includimi quindi un enorme un enorme lavoro che scusatemi in modo noiosissimo probabilmente ma bisogna il presidente al congresso deve raccontare quello che è stato fatto è anche quello è anche quello che che ci attende qual è il futuro del servizio sanitario nazionale il ruolo della medicina interna ripartire dai 550 mila 650 mila ricoveri che abbiamo lasciato da parte il follow up del paziente con covid-19 un grosso impegno che abbiamo tutti per seguire le conseguenze del covid nei nostri reparti e poi un approccio da ridefinire di area medica interdisciplinare con le competenze per una risposta subintensivistica come stiamo facendo con le regioni in un ospedale duttile come dico sempre io un ospedale fisarmonica che si allarga e si restringe a seconda della necessità con reparti che in una settimana possono cambiare per accogliere eventuali pazienti con caratteristiche nuove e per affrontare le criticità l'ospedale però non al servizio del territorio perché dicevo è un sistema di vasi comunicanti però se noi parliamo di hub e spoke l'ospedale non può non essere l'hub di questo sistema la riorganizzazione implementando la telemedicina e poi rinforzare il legame ospedale territorio nel quale la medicina interna è il partner naturale della medicina generale e dell'organizzazione territoriale chiudo il presidente Draghi che avevo invitato a questo congresso poi due giorni fa a telefonare dicevo io non posso venire però no gli ho detto a questo punto non venire perché insomma no fatto male no ringrazia per l'invito ma al solito impegno però ha ringraziato e fa i complimenti ci ha fatto i complimenti però per me è sempre posso dire una fonte di ispirazione soprattutto per le cose che dice quando dieci anni fa disse la banca europea is ready to do whatever it takes qualunque cosa a qualunque costo e questo believe me it will be enough e poi il rischio ragionato i giornali hanno tradotto il rischio calcolato lui ha detto rischio ragionato io credo voglio dire che il rischio ragionato il whatever it takes noi lo facciamo sempre ci hanno insegnato a farlo i nostri maestri lo abbiamo imparato lo stiamo facendo lo stiamo insegnando perché noi con queste modalità vogliamo curare e prenderci cura del malato ma anche del servizio sanitario nazionale noi vogliamo agire per il paziente e per migliorare il servizio sanitario nazionale detto questo io vi ringrazio per la vostra attenzione e dichiaro aperto il 26esimo congresso nazionale della Fadoi grazie a tutti grazie a tutti Grazie. 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 Abbiamo sempre i presidenti migliori uno dopo l'altro. C'è stata solo un'eccezione, un'inversione tra me e Fontana, che lui era migliore ancora, come si dice al nord, più migliore ancora di me. No? Va bene. Detto ciò, Sandro, devi presentare. Dunque, come ha già anticipato il presidente nella sua relazione, adesso ci sarà il video della registrazione della cerimonia di consegna del premio Fadoi Ricerca 2021, Anthony Fauci. Grazie. And I'm, of course, particularly pleased to welcome Dr. Fauci back to Villa Firenze, to the Italian residence. Bentornato, Dr. Fauci. Let me just say a few words about Italy. Italy was a country hit very hardly by the pandemic. At the very beginning, we were really the most challenged country in Europe and probably in the world by the pandemic. And today, after a year and a half, because we followed science, because we trusted science, and also because science was supported by a very impressive logistic endeavor, we are today really in a much better position. Italy is a country that has a very good record of vaccination. Our population, over 12 years old, is vaccinated at 75%, more or less, which is really, I think, impressive. I want to take this opportunity to say how impressed I am with my Italian internal medicine and hospitalists in Italy, who so extraordinarily bravely handled what we all know now as a historic pandemic, the likes of which we have not seen in well over 100 years since the historic pandemic of influenza in 1918. Italy got hit much more severely right before the United States did. And we learned a lot from our colleagues. I remember getting on the phone to people who I actually had trained, who now were in hospitals in Milano, in Genoa, in Rome, and were hearing from them things that were actually important information that helped us in our ultimate treatment of individuals. And the Italians have done an extraordinary job, not only in the giving first-class, state-of-the-art care to patients with COVID in Italy, but also setting an example for the rest of the world. Also, in the arena of vaccinations, I heard from Madam Ambassador that for individuals 12 years old and older, you have over 70% of that population is now fully vaccinated, which, quite frankly, is even better than us here in the United States. So, again, in the arena of not only clinical medicine, but in how you have rolled out your vaccine program. You mentioned something about following the science. When I first accepted the position as the primary medical advisor to President Biden, he told me something that is true to today, that we will always follow the science no matter where it takes us. And we will make scientific evidence and data what drives everything that we do. And I know that that's exactly what's going on in Italy. So I want to congratulate my Italian colleagues that you are in unison with us. And it's something that we will do together as brothers and sisters. So I just want to tell you how much I appreciate, again, being here and receiving this prestigious award. But it gives me another opportunity to strengthen the bonds that I feel so strongly with Italy and with my Italian colleagues. So thank you so much. I truly appreciate it. Dear Dr. Fauci, it is a pleasure and an honor that you have accepted to receive the Fadoi Internal Medicine Award 2021, which the executive committee of my society has decided unanimously to confer to you. Internists, we have provided and are still providing care for over 70% of COVID-19 patients hospitalized in Italy at multiple levels of complexity, including non-invasive ventilation and sub-intensive care to prevent intubation and subsequent transfer to intensive care units. We dealt with very many problems, organizational, scientific, and above all, human, death, illness, disability. A very difficult period we have faced during which scientific reference and or guidelines were often lacking, we have always found in the words and in the papers of Dr. Fauci a fundamental inspiration for our clinical daily activity. Very often an answer to our clinical problems, a guide, a reference. The right way that the ambassador said, according to science, following the science. For this reason, we are very grateful to Dr. Fauci. Our award consists in an ancient astrolabe. This is a symbol dear to our physicians who always can find the right path. And this is the motivation of the prize that I'm going to read. To Dr. Anthony Fauci for the invaluable contribution to promote medical knowledge and clinical experience in the field of internal medicine and infectious diseases. From Italian internists with gratitude and appreciation for his fundamental inspiration in their clinical practice. Thank you. Thank you. Antone Fauci. Antóni Fauci è stato un eroe della resistenza alla stupidità, all'ignoranza scientifica, ha resistito a battaglie ben più dure delle nostre. Grazie. Adesso chiamiamo alla tavola della Presidenza i coordinatori del successivo... No, no, ancora no. Ancora no, aspetta, Sandro. Allora, io stavo dicendo ancora un complimento al nostro Presidente anche per il suo inglese. Se fosse citato io non avrei potuto comunicare, se non in siciliano, come l'Antonio di Fauci. Dice che lo capisce, così mi hanno detto. E allora, detto ciò, doveva essere presente anche, almeno avevo promesso un saluto da parte del Sindaco di Firenze, però si vede che ha avuto particolari impegni. Adesso invece... La lettura di Fauci? Sì, sì. Vi state perdendo? No, non stiamo perdendo, è qua. Vedete, io sono imbrigliato dalla... Mi riprende la parola e non c'è il video. Fontana dove riprende la parola. Mi riprende la tua Fontana, ma che fai, scherzi? Allora, è la prima volta che seguiamo uno schema, diciamo, protocollo di tipo manvellottiano e come vedete commettiamo degli errori, mentre prima noi siamo stati un po' più fontane, insomma. Fontana, Sandro, ti sei perso al quarto rigo. Sì, adesso ci sarà il video della lettura magistrale di Anthony Fauci, la lettura è Covid-19 2021, Lesson, Learned and Remaining Challenges. Sì, Anthony Fauci. Sì, perfetto. I would also like to express my deep respect and gratitude to the physicians of Fidoi, who have been on the front lines across Italy throughout the COVID-19 pandemic. Your dedication to your patients, medical knowledge, and compassion is simply amazing. The world continues to benefit from your contributions to clinical knowledge and research, leading to improved care of patients with COVID-19. I am pleased to speak with you today at the Fidoi National Congress on COVID-19 in 2021, Lessons Learned, and Remaining Challenges. And so, let us begin with a discussion. In the beginning of the outbreak in January of 2020, I wrote a viewpoint for the Journal of the American Medical Association, and I entitled it Coronavirus Infections More Than Just the Common Cold. I was not trying to be facetious with that title, but I just wanted to point out to the readers of the viewpoint that we have had decades of experience with coronaviruses that antedated what we are experiencing now. And in fact, if one looks at the phylogenetic tree of coronaviruses, the human coronaviruses are in red font, but the yellow highlighted viruses are those that are currently, and have been for a very long time, the cause of maybe 10 to 15 to 25 percent of the common colds that we experience continually, usually throughout the winter months. However, in 2002 and in 2012, we had the experiences with the first pandemic or pandemic pandential potential coronaviruses, the severe acute respiratory syndrome in 2002, and the Middle East respiratory syndrome in 2012. And these are where these viruses fit in the phylogenetic tree, shown here in the yellow highlight. What we're facing with today is yet again another, but now unprecedented in its impact, coronavirus that leading to a pandemic. And as we all recall, as cases of an unusual pneumonia appeared in December of 2019 in the Wuhan Central District of China, soon thereafter, in the first week and a half of January of 2020, the Chinese identified and put on a public database the sequence of this novel coronavirus. And here it is shown on the phylogenetic tree with the yellow highlight, very close to the SARS-CoV-1, but also close to a number of bat viruses. Fast forward to what we see here today. We are now experiencing the most impactful respiratory disease pandemic in more than 100 years, dating back to the historic influenza pandemic of 1918. Currently, as of just literally a couple of days ago, we now have 230 million cases worldwide and more than 4.7 million cases that have died. In virology, we now see and learn an awful lot about this virus. As I mentioned on a previous slide, it is a beta coronavirus. It is an RNA virus with a large genome. It has four structural proteins, the most important of which is the S protein, particularly with its receptor binding domain that binds to the ACE2 receptor, seen on cells in the upper airway, hence the entry of the virus into the body, the lungs, the GI tract, cardiovascular tissue, and endothelial cells. So it's a rather widespread receptor. With regard to the transmission of the virus, it has now been very well studied. It is transmitted by exposure to respiratory fluids, either typical respiratory droplets, or as we've learned over the years, aerosol particles also transmit. These droplets or particles are deposited on exposed mucous membranes in the mouth, nose, or ears. Transmission is much, much less common through contact with contaminated surfaces. And the greatest risk is in enclosed places. Hence, always saying that outdoors is always better than indoors for protection, but particularly places with poor ventilation and during behaviors that lead to the expression of these droplets, such as exercise, singing, or prolonged indoor exposure. There are some very unique aspects of this virus. One of the most important of which is that a virus that, as I mentioned, can kill so many people globally. At least one-third and maybe 40% of patients who develop infection never develop symptoms, which is most unusual to have a virus that has such deadly potential, but yet can be asymptomatic for such a large proportion of people who get infected. Another very unique aspect of this virus is the fact that close to 60% of all the transmissions result from transmission from an asymptomatic person, namely someone who will never develop symptoms or someone who is pre-symptomatic and will soon develop symptoms. What about the clinical manifestations? As I mentioned a moment ago, a significant proportion of people never develop symptoms. But for those who do develop symptoms, the clinical presentation strongly resembles that of a flu-like syndrome, as shown by the signs and symptoms on this slide. However, there is a very unique aspect of the symptomatology, and that is that in a significant proportion of people, there is a curious loss of smell and taste, which precedes the onset of the respiratory symptoms and can actually continue to persist even after recovery from the viral infection. For those who do get symptoms, about 80% are mild to moderate, whereas anywhere from 15% to 20% are either severe or critical, leading to a case fatality rate overall of about 2.3% of symptomatic people. However, 20% or more for those who require ventilatory assistance with a ventilator. What about the people who are increased risk for severe COVID-19 illness? They are older adults, as well as people of any age who have certain underlying medical conditions. paramount among these are obesity, pulmonary disease, chronic obstructive pulmonary disease, cardiovascular disease, renal disease, and other organ system dysfunction leads in many patients to an increased likelihood of having a severe outcome if they get infected with SARS-CoV-2. The manifestations of severe disease are protean. It's dominated by the acute respiratory distress syndrome. But as we've learned more and more about the clinical manifestations of this disease, it's clear that other organ systems can be involved, such as neurological disorders, cardiac dysfunction, acute kidney injury. There's also hypercoagulability, which can lead to stroke or organ system dysfunction. And then we've noticed a very unusual aberrant or hyperinflammatory response, usually late in the course of disease, which tends to dominate the pathogenic picture even more than viral replication itself. Also, there's a syndrome called multi-system inflammatory syndrome in children, very reminiscent of Kawasaki syndrome that we've known about for a long time. There's also post-COVID-19 conditions. Some are explainable by residual organ system dysfunction that is directly explained by damage, such as damage to the lung, leading after recovery to pulmonary function abnormalities. However, there is about anywhere from 15 to 30 percent of individuals have a persistence of signs and symptoms for anywhere from weeks to months that are not completely explainable by readily apparent pathogenic processes. This is referred to as long COVID. And some of the commonly reported signs and symptoms of long COVID are extreme, sometimes debilitating fatigue, unexplained shortness of breath, muscle aches, dysautonomia, characterized by temperature dysregulation and unexplained tachycardia, sleep disturbances, depression and anxiety, and a very curious situation referred to as brain fog where people have difficulty focusing or concentrating their thoughts. The medical management of SARS-CoV-2 infected people involves the control of symptoms usually on an outpatient basis until the person recovers and organ support usually requiring hospitalization and organ system reports such as mechanical ventilation. But also, there's pharmacological intervention such as antivirals and immunomodulators. and one can treat the virus directly with drugs, some of which have already been approved by the regulatory agencies such as remdesivir and other antivirals that are in clinical trial. One of the most important direct antiviral agents that have proved successful are the monoclonal antibodies, usually in combination by companies such as Regeneron, Lilly, GSK, Inver, and others. Also, one can moderate the host response such as with dexamethasone when you have a hyper or an aberrant inflammatory response. Also, monoclonal antibodies against certain of the inflammatory mediators such as IL-6 and JAK kinase and others. But one of the things that we clearly want to do is to identify vulnerable targets in the SARS-CoV-2 replication cycle and design drugs to inhibit these vulnerable targets. This is very similar to the strategy that was so successfully used in the development of multiple combinations of antiretroviral drugs for HIV and also for hepatitis C virus. This is an example of the replication cycle of SARS-CoV-2 and notice that there are multiple targets that potentially can be inhibited by drugs such as polymerase inhibitors, protease inhibitors, entry inhibitors, and others. Let me talk now about a very important subject, vaccines. Clearly, of all the interventions in this historic pandemic, the really striking success story has been with vaccines. There's a very important story behind vaccines. People sometimes are concerned that it was only the 11 months from the recognition of the sequence of the virus to the time we had a successful vaccine being administered to individuals. It was 11 months from January 2020 to December 2020. But as I put and wrote about in a commentary in Science a few months ago in April, the speed and efficiency with which these highly efficacious vaccines were developed and their potential for saving millions of lives are actually due to an extraordinary multidisciplinary effort involving basic preclinical and clinical science that has been underway out of the spotlight and under the radar screen for decades before the unfolding of the COVID-19 pandemic. It relates to a number of things, including vaccine immunogen and vaccine platform. With regard to the successful immunogen, it relates to studies that long antedated COVID-19, and that is the structure-based vaccine design that began with studies trying, albeit as yet unsuccessful, to develop a immunogen for an HIV vaccine that would induce neutralizing antibodies. And cryo-EM and structure-based vaccine design enabled investigators to develop a stable, soluble structure of HIV envelope trimer. A number of other laboratories also did this. This was soon applied to other viruses such as respiratory syncytial virus, where investigators such as Barney Graham and others were able, using this structure-based design, to show that they could stabilize with appropriate mutations the prefusion F protein of respiratory syncytial virus, making it a highly successful immunogen, leading to a successful endeavor to develop a respiratory syncytial virus vaccine. When MERS came along, this same approach was taken, structure-based vaccine design of the MERS vaccine, which we never had to use and is still in development. So when SARS-CoV-2 appeared, immediately investigators used the knowledge from the other vaccine attempts to use the same mutations to stabilize the spike protein in its prefusion form to be used as an extremely successful immunogen, leading, as I'll mention in a moment, to multiple highly successful vaccines. Vaccine platform advances, particularly in the mRNA vaccine or the viral vectors such as the adenovirus or recombinant proteins have helped lift the field to be able to be successful vaccines. This goes back many years to the studies of Katie Carrico and Drew Weissman who showed that they could modify the mRNA molecule without triggering key inflammatory pathways and so could overcome an important hurdle to developing a vaccine. Dan Baruch and his colleagues at Harvard have been working with the adenovirus vector predominantly in HIV and in Ebola. So that work antedated the work on SARS-CoV-2 and here on this slide shows three platforms nucleic acid mRNA adenovirus vector and recombinant protein leading to successful vaccines one of which has been fully approved by the United States FDA BioNTech Moderna's mRNA J&J's adenovirus AZ is still now being developed and improved in Europe and other places as well as other vaccines from China Russia and other countries. COVID-19 has shown clear efficacy in clinical trials. 94 to 95% efficacy for the mRNA. Its effectiveness in real world settings is very, very clear and its impact of variants, which I'll mention in a moment, has been extremely important. There have now been multiple variants. The one that is dominating in the United States, 99.5% of the isolates are Delta variants. But throughout the world, Delta has now seen in at least 163 countries. Why is it so important? Its transmissibility is very, very efficient. Multiple times better and more efficient than other variants. In addition, the viral loads in the upper airway of people who are infected is up to 1,000 times greater than other variants like the Alpha variant. However, what we've seen is that over time, the effectiveness of vaccines against infection in the context of the Delta variant have diminished considerably, as shown on this slide, from cohorts in the United States. However, in the United States, there has been a suggestion of waning of effectiveness against severe disease resulting in hospitalizations. Note the Moderna-Mayo Clinic in red went from 91 to 81 and the Mayo Clinic Pfizer in green went from 85 to 75. Israel has been ahead of the United States in their vaccination program and what is going on regarding the Delta variant and vaccine, as shown on this slide, in a fully vaccinated population in Israel, there's been an increase in infections and severe disease, even in people who are vaccinated, leading to the concept of the need of booster shots for SARS-CoV-2. Here's an example of what you do when you actually boost people who have received the Moderna vaccine, a dramatic increase following that third dose. So if you look on the D1, that's right before the third dose. D15 is about 15 days following the third dose. And against multiple variants, you can see there's either a 23-fold increase, 32-fold increase, 44-fold increase. Very similar with the Pfizer boost. When you boost individuals, whether they be younger individuals or older individuals, you dramatically increase the antibody levels and ultimately the protection, as shown by the Israelis against severe disease as well as infection. Very recently, literally yesterday, the FDA authorized a booster dose of Pfizer vaccine for people 65 years of age or older, 18 to 64 with a high risk of severe COVID-19 due to underlying conditions and 18 to 64 whose frequent institutional or occupation exposure puts them at high risk of serious complications. What will happen after I give this lecture, because it is happening in real time, is that our Centers for Disease Control and Prevention will make a recommendation based on the information on on this slide as to actually what the recommendation will be for people in different age groups. The real question is, is the booster shot a booster for waning efficacy and is it a luxury, or will the booster shot actually be part of the original vaccine regimen? Very similar to the multi-shot regimens we have for measles, for hepatitis C, and for other vaccines. I want to close by acknowledging that it is very important that simultaneously with even considering boosters, we do whatever we can to get the rest of the world vaccinated, because as shown on this slide, particularly in sub-Saharan Africa, a relatively small proportion of the population have received at least one dose, as shown by Africa on this slide. And for that reason, the United States has been pushing very hard and has already committed 1.1 billion doses of vaccines to low- and middle-income countries, and will continue to push and give more doses and try to lead the rest of the world in giving some of their doses to the low- and middle-income countries. So finally, we're really living in a race, and the race is against SARS-CoV-2 and our ability to utilize, make, and distribute what we know are highly effective vaccines. And so the challenge is here, we have the capability of ending this, it is really entirely up to our will and our resources to get it done. Thank you very much. Non è di tutti avere una lezione direttamente di Anthony Fauci per il suo Cifadoi, però il suo Cifadoi hanno un privilegio che potranno avere direttamente sui loro computer, risentire, rivedere la lezione, solo riservata ai soci stavolta. Bene, accogliamo il sindaco della città che ci ospita, il dottore Nardella, con un applauso per il saluto che vorrà dare a noi. Chiedo anche al nostro presidente di prendere posto anche qua per fare gli onori di casa, quindi mi pare corretto. Grazie, sono molto onorato di chiudere la parte inaugurale di questo convegno, di questo 26esimo congresso nazionale e sono felice di portare il saluto a tutti i medici del Fadoi e tutti i medici internisti anche perché questo è uno dei primi congressi che accogliamo in presenza o comunque in modalità mista e questo ci riempie il cuore di fiducia e di ottimismo. Certo, non è un congresso post-Covid ma è cum-Covid quindi stiamo davvero vivendo quella dimensione di convivenza che avevamo voi prima di molti altri avevate preannunciato e che sta cambiando diciamo in modo strutturale profondo i nostri stili di vita. Per la mia esperienza di sindaco sapete che i sindaci vivono questo paradosso sono l'autorità sanitaria locale più importante firmiamo i TSO però non contano niente sulle decisioni diciamo non hanno competenze in realtà devo dire che il lavoro che facciamo insieme sia all'ASL che all'azienda ospedaliera universitaria è un lavoro di grande collaborazione qui riconosco un po' di medici direttori di ospedali del nostro territorio e sappiamo quanto la medicina interna abbia svolto un ruolo fondamentale nella rete ospedaliera anche durante il covid con un impatto pesantissimo mi veniva detto prima di venire qui 500.000 ricoveri in meno durante il periodo del covid infatti sul terreno sanitario oltre riferimento alla medicina interna e alla sua importanza io credo che sia necessario sottolineare l'importanza di affrontare questa nuova fase nella quale dobbiamo riequilibrare dopo aver immesso tutte le energie possibili immaginabili in questa sacrosanta necessaria battaglia al covid ora dobbiamo appunto recuperare tutta quella che è il resto dell'attività ieri ero con un'associazione di donne la Lilt di donne operate al tumore al seno mi dicevano i medici e i chirurghi il 37% di persone in lista d'attesa per ora è fermo bloccato ma questo non è un dato che riguarda soltanto la Toscana non credo che ci sia un caso della Toscana non penso affatto è un problema che ben sapete molto diffuso e per questo io credo che questa opera di gestione di tutta questa fase di lento graduale progressivo fuoriuscita dall'emergenza del covid il confronto con le amministrazioni comunali è costante anche nel medio lungo periodo ad esempio per affrontare il fabbisogno di figure mediche da formare anche perché con la rete ospedaliera dei medici internisti perché voi avete il polso dei bisogni di salute della popolazione noi possiamo raggiungere la più ampia fetta insomma di malati più del 70% quindi lavorare sulla formazione sul fabbisogno dei profili è importante così come lavorare sulla costruzione di una sanità del territorio quello che io ho appreso da amministratore locale è che anche da questa vicenda del covid è che la sanità deve riuscire a dare risposte a diversi livelli abbiamo i grandi ospedali abbiamo diciamo le eccellenze che siamo in grado di raggiungere su le malattie più complesse ma poi dobbiamo garantire quel servizio costante capillare sul territorio e questo lo possiamo fare con gli ambulatori e società della salute perché credo che nel settore della sanità la cosa fondamentale sia stabilire bene chi fa che cosa perché non tutti possono fare le stesse cose altrimenti rischiamo di appesantire e intasare il sistema sanitario confondendo il ruolo di un pronto soccorso di un grande ospedale con il ruolo di un piccolo ambulatorio in un quartiere della città ecco credo quindi che le sfide che abbiamo davanti sono veramente molte per questo mi ha fatto piacere venire qui mi ha fatto piacere ascoltare anche la parte finale del professor Fauci che ospiteremo in un convegno al quale siete tutti invitati dedicato a Romagnani al professor Romagnani il 22 ottobre qui c'è il dottor Armentano con lui lo stiamo costruendo e perché la richiesta che faccio a tutti voi è quella di considerare anche le amministrazioni locali i comuni e i sindaci come degli interlocutori privilegiati è vero che la competenza della sanità e delle regioni ed è giusto che ricevano l'attenzione che meritano è vero che il livello nazionale con il ministero è ovviamente un altro livello ma è sul territorio che noi possiamo costruire il salto di qualità nel definire la sanità dopo il covid perché forse nella sanità più che in qualunque altro settore vale quel modo di dire ormai diffuso che niente sarà più come prima quindi vi auguro davvero buon lavoro perché questo congresso sia anche per i non addetti ai lavori come me un punto di riferimento con proposte idee rispetto alle quali noi siamo pronti a collaborare in qualunque modo grazie 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 e per le parole che ha detto sicuramente finalmente la consapevolezza anche da parte di chi è il responsabile della salute anche nelle proprie città che poi sono i sindaci anche se il sindaco ha detto che insomma pur essendo il responsabile della sanità in genere deve aspettare che arrivino le varie disposizioni io dico che il futuro in ogni caso è di rinforzare e rafforzare la sanità ma non dimenticare gli ospedali perché nell'ambito degli ospedali la gente ha come forma mentis o dobbiamo cambiare la forma mentis delle persone che hanno necessità perché il pronto soccorso è la salvezza perché là ci sono le tappe ci sono le tecnologie eccetera per cui probabilmente bisognerebbe suggerire anche come diceva il nostro presidente una rivalutazione un po' diversa da quello che saranno i finanziamenti detto ciò grazie ancora e chiamo il collega un internista umanista Antonio Perciaccante dov'è? è qua perché il collega è un internista di Gorizia che ha dalla sua una passione che è quella della cultura romanistica non solo ma in particolare visto che siamo a Firenze praticamente ci parlerà di una lettura di un grande fiorentino Dante Richieri e la medicina vediamo e ascoltiamo prego collega buon pomeriggio a tutti innanzitutto grazie alla società Fadoia al dottor Manfellotto per l'invito si parlerò di un grande fiorentino ma anche di un grande italiano e lecito chiedersi come mai parlare di Dante Alighieri a un congresso medico innanzitutto io non avevo dubbi che Fadoia avrebbe accettato perché il poeta direbbe per nostra semenza noi internisti abbiamo una visione olistica e poi perché Dante e la medicina hanno una relazione molto più stretta di quello che uno possa immaginare e lo scopriremo oggi leggendo alcuni versi della Divina Commedia che ho selezionato sapete che la Divina Commedia oltre ad essere un capolavoro letterario è un'importantissima fonte di informazioni su vari aspetti della cultura del Medioevo tra cui la medicina un breve ricordo velocissimo su quella che era la medicina nel Medioevo era un mix di superstizione di religione di alchimia e di nozioni classiche e intendiamo le nozioni di Galeno e di Ippocrate la teoria dei quattro umori tanto per capirci però nel Medioevo si verificano due eventi molto importanti nascono le università e viene data la possibilità di eseguire le autopsie sugli esseri umani se noi analizziamo in maniera globale la Divina Commedia possiamo dire che Dante prende alcune posizioni riguardo la medicina del tempo condanna ovviamente l'alchimia perché condanna gli alchimisti collocandoli nella decima bolgia dell'ottavo cerchio dell'inferno e in più nomina ben cinque medici nella Divina Commedia quattro li nomina nell'inferno nel quarto canto e nomina Ippocrate Avicenna Galeno e Averroè però attenzione dove li nomina dove li colloca li colloca nel limbo nel limbo ci sono anche le persone erette che per un qualsiasi motivo non sono riusciti a conoscere non hanno avuto modo di conoscere la parola di Cristo quindi in realtà non li condanna li salva li considera persone erette e li salva dalla dannazione e il quinto medico che viene nominato è uno dei più grandi medici dell'epoca del Medioevo cattedratico a Bologna Taddeo degli Alderotti che viene nominato nel Paradiso però andiamo oltre andiamo più dentro e vediamo quali erano le conoscenze mediche che Dante aveva e ce ne saranno diverse iniziamo dal nono canto del Purgatorio Dante deve entrare nel Purgatorio deve salire tre scalini descrive questi scalini e il terzo lo descrive come segue lo terzo che di sopra sa massiccia porfido mi parea si fiammeggiante come sangue che fuor divena spiccia quindi descrive del sangue rosso vivo fuoriuscire da vene in realtà William Harvey ci spiegherà che questo non è vero però era perfettamente in linea con le conoscenze del Medioevo perché le conoscenze del sistema cardiovascolare respiratorio all'epoca di Dante erano quelle date dal sistema cardiovascolare chiuso aperto di Galeno velocemente che cosa si credeva che il sistema venoso trasportasse sangue questo sangue poi arrivava alla parte destra del cuore da qui passava attraverso dei micropori invisibili nella parte sinistra dove si mescolava con l'aria e il pneuma che era uno spirito vitale che venivano introdotti dai polmoni quindi sangue e aria mescolati venivano trasportati dal sistema arterioso Dante aveva una visione quasi aristotelica cioè il cuore era l'organo centrale tant'è che in alcuni versi del purgatorio che io non riporto per questioni di tempo colloca anche l'origine della spermiogenesi all'interno del cuore però aveva anche profonde conoscenze fisiologiche e ce lo dice nel ventiquattresimo quando ci racconta il passaggio dalla sesta alla settima bolgia le cosiddette malebolge che avviene attraverso un percorso piuttosto impervio e dice noi pur venimmo al fine sulla punta l'ultima pietra si scoscende l'alena mera del polmon si munta quando io fui su che io non poteva più oltre anzi massisi nella prima giunta quindi stanco per questa fatica che ha fatto arriva e si siede però il verso che è fondamentale in questo caso è il seguente l'alena mera del polmon non si munta perché con questo verso ci dice di essere perfettamente a conoscenza della fisiologia del sistema cardiorespiratorio e questo non lo sostengo solo io o meglio l'avevano sostenuto già ad esempio il poeta ed umanista Cristofaro Landino a cosa servivano i polmoni? i polmoni avevano una triplice funzione introdurre il pneuma proteggere meccanicamente il cuore ma soprattutto raffreddare il calore intrinseco che veniva prodotto dall'attività cardiaca e cosa succedeva durante l'attività fisica quello che succede a Dante nella salita dalla sesta alla settima bolgia succede che il cuore inizia a lavorare di più quindi aumenta la produzione di calore e il polmone come un mandice deve soffiare più aria fresca per abbassare questa temperatura e quindi lo stesso Cristofaro Landino ci diceva adunque dice bene Dante l'alena cioè la forza era su immunta si disseccata perciò che come la poppa si dissecca per il mungere così il polmone per ventilare e quella è una testimonianza di come nella divina commedia non ci sia una parola che sia stata messa a caso con una sola frase Dante ci dice conosco la fisiologia del sistema cardiovascolare ma non solo era anche a conoscenza dell'anatomia del sistema nervoso sia centrale che periferico e ve ne faccio alcuni esempi incontra i seminatori di discordia in modo particolare vede arrivare verso di lui un'anima che porta nella sua mano in modo di lanterna la propria testa è l'anima di Bertram del Borneo che seminò discordia fra Enrico II ed Enrico III Dante gli chiede come mai si presenti così e Bertram del Borneo risponde perché io partì così giunte persone cioè perché io divisi separai persone così giunte con riferimento a Enrico II ed Enrico III partito porto il mio cerebro l'asso cioè stanco porto il mio cervello separato da cosa? dal suo principio che è in questo troncone e sembra chiaro il riferimento a quello che è il tronco encefalo che stava alla base e sta alla base dell'encefalo ancora altri versi altro passo Dante e Virgilio si trovano di fronte alla città di Dite i demoni vi ricordate non vogliono far passare non vogliono far entrare Dante evocano addirittura Medusa per evitare che Dante resti pietrificato dallo sguardo di Medusa Virgilio lo invita a chiudere gli occhi superato il pericolo lo invita a riaprirli con questa frase ordrizza il nervo del viso dove il viso non è il volto ma inteso come vista e quindi è un riferimento chiarissimo al nervo ottico oppure ancora passiamo nel girone in cui incontra le animi dei violenti contro Dio tra cui i sodomiti c'è il famoso incontro col suo maestro Brunetto Latini però più che altro volevo sottolineare l'incontro e il fatto che lui riconosca il vescovo Andrea De Mozzi dice colui ipotei che dal servo dei servi il servo dei servi era Bonifacio VIII ovviamente perché Dante insomma era abbastanza pungente nei suoi confronti fu trasmutato d'Arno in Bacchiglione fu trasferito da Firenze a Vicenza dove lasciò i malprotesi nervi in modo molto molto elegante per dire dove morì macchiandosi del peccato di sodomia e i malprotesi nervi è un riferimento a quella che era l'innervazione dell'organo genitale maschile che secondo le teorie del tempo era poi il motivo per cui avveniva l'erezione maschile Dante inoltre ci descrive anche segni, sintomi e malattie ad esempio famoso è l'incontro con Mastradamo un falsario di moneta come lo descrive lo descrive così io vidi un fatto a guisa di leuto cioè a forma di liuto avete presente il liuto purché lì avesse avuta l'anguinaia tronca dall'altro che l'uomo afforcuto cioè avrebbe avuto la forma di un liuto se solo non avesse avuto le gambe la grave idropesì che si dispaia le membra con lo mol che malconverte che il viso non risponde alla ventraia aveva una grande idropesì a un notevole accumo di liquidi dovuto a una malconversione uno dei quattro umori così che il viso non corrisponde alla ventraia cioè l'addome era sproporzionato rispetto al viso e quindi ci descrive la scite ancora deve salire in groppa il demone Gerione che praticamente ha una coda simile a quella degli scorpioni una coda cuminata Dante ha paura e descrive così la sua paura qual è colui che si presso al riprezzo della quartana ha già lunghi e smorte e triema tutto pur guardando il rezzo e qui c'è un chiaro riferimento alla quartana alla febbre quartana e ha delle caratteristiche della febbre il tremore il brivido scuotente e lunghi e smorte possono essere interpretate come il pallore dovuto alla vasocostrizione nel momento in cui c'è il brivido oppure alla cosiddetta leuconichia che era un accumulo di sostanze paracheratosiche che era tipica di febbre croniche come ad esempio la febbre malarica ma non è l'unico riferimento alla malaria Dante conosceva bene la malaria ce lo dimostra quando entra nel girone dove incontra gli alchimisti perché? perché ci descrive un dolore una sofferenza così grande e la paragona alla sofferenza che si sarebbe potuta sentire se tutti gli ammalati degli ospedali di Valdichiana di Maremma e di Sardegna fossero stati in un unico luogo in un'unica fossa Valdichiana Maremma e Sardegna sono delle aree endemiche per malaria però state attenti cosa dice vicino a Valdichiana tra luglio e settembre che è il picco di incidenza dei casi di malaria restando sempre nell'ambito degli alchimisti incontra l'anima di Griffolino d'Arezzo dalla figura che nell'illustrazione è presa da William Blake vedete ci sono due anime che si grattano e sono poggiate l'una all'altra Dante le descrive così io vidi due sedere assepoggiati dal capo al piedi schianze macolati quindi ricoperte di queste lesioni cutanee e non vidi giammai menare streggia come ciascun menava spesso il morso dell'unghie sopra sé per la gran rabbia del pizzicor che non ha più soccorso quindi erano delle lesioni pruriginose e ci dice lui stesso di cosa si trattava e si traeva giù l'unghie e la scabbia ancora altro riferimento a patologia è quando incontra l'anima di Vanni Fucci un ladro e descrive questa scena e qual è quel che cade non sa como per forza di demon che atterra il tira o d'altro pilazione che lega l'uomo quando si leva che intorno si mira tutto smarrito della grande angoscia che le ha sofferta e guardando sospira tal era il peccatore levato poscia cosa c'è di interessante descrive quest'anima che all'improvviso cade giù senza sapere come e quando si riprende stordita viene visto il riferimento all'epilessia però state attenti secondo me non è tanto i versi che ho sottolineato quando questi altri due che ci dicono chiaramente che si trattasse di epilessia perché perché ci dice per forza di demon che atterra il tira come se un demon ne la tirasse per terra o d'altra opilazione cioè d'altra ostruzione che si verifica nell'uomo quali erano le teorie eziopatogenetiche dell'epilessia durante il medioevo eziologia sovrannaturale vi ricordate gli epilettici erano considerati quasi degli indemoniati e poi una teoria più scientifica che era quella proposta da Eppocrate secondo cui succedeva questo veniva prodotto nel cervello un eccesso di flegma che penetrava nei vasi sanguigni e li chiudeva li ostruiva all'oppilazione a cui si riferisce Dante questo impediva il passaggio di sangue e di aria e Dante descrive entrambe queste teorie e poi vado a quella che è stata la mia prima passione mi sono avvicinato a questo aspetto diciamo della Divina Commedia studiando le cosiddette sincopi di Dante i cosiddetti svenimenti che per molti sono in realtà degli espedienti letterari però sono delle bellissime descrizioni che lui fa relative a questi episodi sincopali il più eclatante avviene nel momento in cui nell'inferno deve attraversare la Cheronte e dopo che Virgilio ha discusso con Caronte Caronte accetta di trasportarlo Dante dice la buia campagna tremossi forte che dello spavento la mente di sudoran come mi bagna e caddi come l'uomo cui sonno piglia ecco io questa l'ho interpretata come una descrizione di quella che può essere una sincope vasovagale tipica il trigger l'innesco e lo spavento dovuto al terremoto tipica perché ci sono i prodromi la sudorazione e poi la perdita di coscienza ma se questa è l'episodio sincopale più eclatante questo è quello più famoso ovviamente che non ha bisogno di commento basta leggere il sicché di pietà dei jovenni men come io morisse e caddi come corpo morto cade questa volta però potrebbe essere una sincope vasovagale atipica perché non ci sono prodromi ma in realtà sembra essere anche quello che all'epoca si chiamava il mal d'amore l'emozione che gli dava questa reazione è simile e la sincope che avviene nel purgatorio dopo che Beatrice lo rimprovera per la condotta di vita morale che Dante ha condotto dopo la morte della stessa Beatrice vi chiederete come mai come è possibile che Dante avesse queste conoscenze mediche in realtà prima il professor Mirabella vi ha rivelato una delle risposte ci sono diversi tasselli di un mosaico che se messi tutti insieme ci fanno capire il perché Dante avesse queste conoscenze io ve ne ho riportati per questioni di tempo soltanto i più importanti come è stato detto prima Dante il nome di Dante si trova iscritto all'albo dell'Ars Medicorum et Speziariorum di Firenze nel 1295 perché perché all'epoca per svolgere e partecipare attivamente alla vita politica bisognava essere iscritti a uno degli albi ce ne erano sette Dante sceglie questo dove si iscrivono medici, speciali e artisti ma perché sceglie proprio questo probabilmente per i suoi studi filosofici perché sappiamo che nel medioevo la medicina era basata soprattutto su un approccio filosofico e oggi diremmo che il piano di studi dei letterati e dei medici del tempo erano abbastanza sovrapponibili e in più a dirci che Dante studiò a Bologna furono Giovanni Boccaccio e Giovanni Villani e Dante studiò a Bologna negli anni in cui indovinate chi è che teneva lezioni all'università Taddeo degli Alderotti che lui nomina nel Paradiso e il suo allievo Mondino degli Uzi che poi effettuerà la prima autopsia pubblica allora prima di chiudere proprio un minuto solo vorrei attualizzare un attimo Dante portarlo nella situazione storica attuale questa della pandemia come diceva anche il dottor Manfellotto un aspetto importante che è emerso in insegnamento di questa pandemia è l'importanza nella comunicazione della scienza cioè bisogna imparare a comunicare la scienza ma a comunicarla a coloro che non la masticano altrimenti continueremo ad avere sempre chi sostiene che i vaccini sono veleno e chi sostiene e crede che la papaya fermentata possa guarire e prevenire il covid ma questo Dante ce lo diceva già 700 anni fa quando decide di scrivere il convivio che poi non ultimerà parte dal presupposto all'istotelico che tutti gli uomini per loro natura desiderano di sapere però allo stesso tempo sa che non tutti riescono ad accedere a questo sapere e allora decide di scrivere il convivio offrendo una sorta di banchetto del sapere in effetti lo chiama convivio per questo motivo e come lo fa? Lo fa utilizzando non la lingua latina ma utilizzando il volgare e su questo secondo me bisognerebbe riflettere e meditare perché il suo primo obiettivo era quello di dare a molti ma in realtà ce l'aveva detto già nella divina commedia quando mette in bocca ad Ulisse queste parole con le quali io vi lascio e vi ringrazio per l'attenzione grazie grazie e chiamo al palco per moderare il prossimo simposio Ada Maffettone e Roberta Pieralli chi? Maffettone e Pieralli mi pare ah e dove sta Pieralli Filippo ok grazie grazie ai padri fondatori per questo straordinario moderazione la vostra amicizia e presenza grazie 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 con la prossima sessione sul simposio Euclide Euclide è un progetto che diciamo prevede la valutazione e la valorizzazione di alcune aree in ambito medico nei progetti di modalità diverse dalla visita ambulatoriale classica dalla valutazione diciamo tradizionale che ha avuto un forte impulso grazie anche alle necessità dettate dalla pandemia covid quindi è un progetto che è molto importante che avrà le diverse realizzazioni e vado direttamente al punto lasciando la parola ad Andrea Fontanella per l'illustrazione del progetto sì grazie Filippo se posso avere anche le diapositive posso partire con la presentazione del progetto Euclide che rappresenta in realtà la fase avanzata non voglio dire finale perché ci saranno ancora delle prossime successive evoluzioni però in realtà il progetto Euclide è un progetto che si basa fondamentalmente sul calare nella pratica quanto è stato costruito negli anni precedenti sostenuto in maniera assolutamente indipendente da Sanofi parla di esperienze cliniche di comunicazione di telemedicina e governance apprendendo e mettendo in pratica ciò che in fin dei conti una guerra come il covid ci ha insegnato vedete questo progetto che è dedicato alle situazioni fondamentalmente cardiometaboliche laddove le patologie cardiovascolari si intrecciano con le turbe del metabolismo e il diabete in particolare parte dal progetto geometria che poi nel 2018 che è stato seguito dagli algoritmi dedicato proprio a questo aspetto e nel 2019 algoritmi nel 2020 il Pitagora nel progetto Pitagora noi siamo già in 2020 quindi in piena pandemia da covid-19 e per questo il Pitagora in effetti che si è trovato a sviluppare proprio nel periodo pandemico aveva avuto poi e maturato lo scopo di rendere i suoi contenuti scientifici ancora più attuali di fatti è stato fatto nel corso del progetto Pitagora che sempre parlava di quest'intreccio tra le condizioni e le patologie cardiovascolari e il rischio cardiovascolare e le patologie metaboliche nel corso del Pitagora si è fatto un ampio riferimento alle complicazioni causate dal covid-19 proprio su entrambi i versi su entrambi i fronti di cui parliamo e quindi da qua è nata l'idea di promuovere questa nuova iniziativa formativa articolata e complessa tra l'altro che era stata finalizzata proprio per analizzare come la pandemia da covid-19 abbia influito e influirà sulle nostre dinamiche comportamentali gestionali specialmente nei nostri piastenti complessi vedete ogni condizione bellica e questa è una condizione bellica ha sempre dato una spinta straordinaria allo sviluppo della tecnica e anche dal covid che è stato sicuramente un evento drammatico per la salute e l'economia del mondo e delle nazioni però ne sono nati degli insegnamenti che noi mettiamo a frutto e lo metteremo non dico per le condizioni critiche che potrebbero presentarsi comunque ma anche nel nostro vivere quotidiano di medici il progetto Euclide quindi aveva l'obiettivo di prevedere che cosa è cambiato cosa potrà cambiare nella gestione del paziente complesso iperteso diabetico cardiopatico cerebrovasculopatico e si ha focalizzato la sua attenzione su cinque topics essenziali la gestione clinica del paziente complesso con patologie cardiovascolari e con comorbidità la gestione clinica del paziente complesso con diabete e comorbidità gli aspetti comunicazionali e psicologici che mai come in corso di questa pandemia hanno avuto un rilievo e lo hanno ancora fondamentale la gestione a distanza la telemedicina del paziente complesso la medicina digitale e poi la governance per la medicina interna il progetto generale ha avuto una struttura basata su eventi differenti un primo evento di analisi un secondo evento in cui si è passata all'azione poi il terzo è quello in cui ora noi ci troviamo che è quello dell'implementazione e dell'amplificazione queste le attività previste arriviamo a introdurre direttamente l'evento di oggi vedete perché sono stati suddivisi per questi cinque topics cinque gruppi cinque gruppi dei quali ognuno lo potete leggere io non le ripeterò naturalmente hanno avuto due tutor e un moderatore cioè diciamo che a tutor più giovani si è associato un moderatore che ha governato e ora governerà questo stesso evento e vedete in rosso per ognuno dei cinque aspetti dei tutor quelli che saranno poi i relatori delle comunicazioni per chiudere poi con una round table con una tavola rotonda quindi questa è la struttura e questo è il significato di questo evento e di questo progetto di assoluto interesse a cui possiamo dare il via i nostri moderatori introdurranno la prima relazione bene e allora come ci ha brillantemente introdotto il nostro past president di seguito verranno qui sul palco quelli che sono stati scelti dai singoli gruppi come gli speaker per poter appunto parlarci di quello che è lo stato dell'arte di questo progetto di quelle che sono state le nostre progettualità e di quello che appunto faremo quindi sul palco al posto del dottore Ferrigno per il primo gruppo c'è il dottore Mastroianni che ci parlerà della gestione clinica del paziente complesso con patologie cardiovascolari e comorbidità prego grazie buon pomeriggio buonasera a tutti i risultati del gruppo di lavoro che vedete qui rappresentato in cui insieme a Claudia Ferrigno che si scusa per non essere presente abbiamo esercitato l'attività di tutor si sono basati su una valutazione complessiva che è quella della sindrome cardiovascolare che il paziente affetto da covid-19 ha manifestato e manifesta tutti gli aspetti sono qui rappresentati non mi soffriamo perché abbiamo solo 5 minuti e quindi vado subito a proporre le proposte operative che sono emerse nell'ambito delle discussioni così come il presidente Fontanella ci ha detto e quindi nell'ambito del nostro gruppo di lavoro abbiamo pensato di identificare il paziente affetto da covid-19 da sottoporre a profilassi antitrombotica mediante un uso standardizzato degli score Padua e Improve ed eventualmente valutare i dosaggi intermedi come voi tutti sapete l'uso di terapie antitrombotiche durante la prima e la seconda ondata è stato molto diffuso si è parlato molto di quali dosaggi utilizzare in realtà poi tutte le linee guida come vedremo hanno dato delle indicazioni precise inoltre abbiamo pensato di studiare la durata della terapia antitrombotica alla dimissione nel long covid considerando l'infezione della SARS-CoV-2 come una tromboinfiammazione sistemica persistente e poi come gestire il paziente internistico con malattie cardiovascolari e nel post long covid è noto che soggetti che hanno un Padua score più alto sono ad alto rischio di mortalità così come anche l'improve rischio emorragico espone il paziente ad alto rischio di mortalità mentre i dosaggi intermedi non si sono dimostrati più efficaci dei dosaggi standard nel profilassi del tromboembolismo nel paziente covid-19 tanto è vero che le linee guida più importanti pubblicate questa è una raccolta di gennaio 2021 affermano l'uso di terapia convenzionale nella trombo profilassi quindi considerare il soggetto affetto da covid-19 come un soggetto che deve essere sottoposto a profilassi seguendo le indicazioni di Padua e di improve e altro ebbene il problema era la dimissione noi facciamo una trombo profilassi per quanto tempo la facciamo o non la facciamo se è vero che consideriamo la malattia una malattia sistemica tromboinfiammazione sistemica persistente ebbene ad oggi ancora non ci sono indicazioni sulla prosecuzione della trombo profilassi alla dimissione del paziente e questi sono due studi che in realtà dimostrano che non c'è un rischio aggiuntivo che comunque gli effetti rispetto ai benefici non sono ancora così provati esiste un razionale per la terapia antipiastrinica se la infiammazione sistemica e il danno endoteliale diciamo e l'impatto sul microcircolo e le trombosi microvascolari che coinvolgono una serie di organi ebbene ci sono delle risultanze che per esempio riguardano il clopidogrel che ha mostrato un effetto protettivo nel reclutamento dei neutrofili in soggetti con influenza ma questo è una diciamo una linea di studio che può essere interessante innanzitutto escludendo che la terapia con antipiastrinici precedente all'infezione non determina un eccesso di mortalità questo è lo studio che lo dimostra tanto è vero che l'Imperial College of London sta promuovendo e in fase di attivazione uno studio clinico importante che prevede la prevenzione delle complicanze cardiovascolari covid-19 con la terapia antiaggregante questo è lo studio e questi sono i farmaci indicati non dimentichiamo che i pazienti deceduti per covid-19 sono pazienti con comorbilità cardiopatici per il 46% e non dimentichiamo che esiste una long covid che questi autori di Nature sull'articolo pubblicato recentemente ci dicono che non è un'esagerazione affermare che la long covid rappresenta la prossima crisi sanitaria gli effetti persistenti di covid-19 si riveleranno per molti anni e persino per decenni queste sono tutte le manifestazioni che il long post-covid determina dalla trombose malattica cardiovascolare eccetera quindi le nostre conclusioni proposte sono state queste studiare l'uso esteso della profilassi del tromboembolismo nel paziente dimesso e quindi bilanciamento fra rischio emorragico e trombotico monitorare il rischio cardiovascolare nel paziente long covid ottimizzare la terapia cardiovascolare in un elevato rischio di outcome negativi di infezioni del no covid-19 studiare gli effetti del long covid sul sistema cardiovascolare ed identificare eventuali strategie prevenzive e recuperare così come è stato detto poco fa le strategie di prevenzione di follow up per i soggetti affetti da patologie cardiovascolari vi ringrazio per l'attenzione grazie a tutti i partecipanti e ringrazio la segreteria scientifica e il centro studi Fadoi per tutto quello che ci ha permesso di fare in queste settimane qui eravamo al 25 maggio come il past president ha identificato come data di inizio tre proposte volevamo riflettere sulle criticità alla dimissione dei pazienti neoinsulinizzati pensare all'uso di farmaci innovativi e pensavamo anche di dare maggiore attenzione agli aspetti nutrizionali in setting semi intensivi abbiamo aperto la nostra community a cui molti hanno contribuito in modo davvero attivo e ringrazio tutti anche a nome del tutor e del moderatore alla fine al 29 giugno ci siamo focalizzati su due aspetti principali la gestione del diabete nel paziente covid ricoverato in area medica analizzando la possibilità di utilizzare anche farmaci innovativi volendo in ospedale e sugli aspetti nutrizionali questi veramente hanno richiamato l'attenzione di tutti in particolare Gabriella Oliva che voglio ringraziare adesso ha dato un contributo importante al gruppo di lavoro abbiamo pensato di riservare il tema che ci sta molto a cuore sulla dimissione del paziente covid eventualmente alla stesura del lavoro che farà seguito all'incontro di oggi non avevamo fatto in tempo a discutere nel 29 giugno come ci siamo mossi beh abbiamo fatto un'analisi della letteratura più recente su questo tema questo è una diapositiva che tutti avremo visto più volte siamo andati ad analizzare gli effetti reciproci da diabete e covid-19 tutti i dati che abbiamo acquisito e analizzato volentieri negli ultimi terribili mesi i potenziali meccanismi patogenetici nei diabetici con covid-19 e poi siamo andati a calare sulla nostra realtà pratica quali sono stati gli obiettivi di trattamento nei diabetici con covid beh naturalmente l'ottimizzazione del controllo glicemico la riduzione del rischio cardiovascolare un pochino più ambizioso importante il governo dell'iperglicemia e dell'infiammazione e poi un aspetto non trascurabile valutare la possibilità di utilizzare con semplicità la terapia e ridurre i contatti all'interno del setting del covid anche qui ci siamo soffermati sui dati più recenti chiaramente nel contesto diciamo non delle terapie intensive questo è quello che tutti abbiamo più praticato siamo andati ad analizzare tutto quello più recentemente raccomandato è venuto fuori un ruolo interessante del GLP1 reseptoragolis oltre a quello consolidato dell'insulina su questo abbiamo ancora riflettuto i rapporti tra GLP1 infiammazioni possibili effetti delle incretine per andare a fare una proposta concreta che è stata una piccola esperienza della quale potremmo magari parlare in tavola rotonda cioè di utilizzare le combinazioni insulina GLP1 reseptoragolis e un aspetto adesso de Menis teneva moltissimo a questo dato glucocorticoide covid diabete quindi l'importanza del monitoraggio l'attenzione al rischio glipoglicemico riduzione e sospensione di steroide schemi di terapia attenzione al follow up concludo su questi aspetti nutrizionali e qui è la nostra proposta davvero quella forse di formarci un po' di più su questo tema quindi abbiamo visto quello che abbiamo non c'è tantissima letteratura ci sono esperienze ci siamo focalizzati sui criteri di fondo della nutrizione artificiale le strategie di nutrizione artificiale nei pazienti covid alcuni focus su nutrizione parenterale e terapia insulinica e su questo riteniamo di doverci formare ancora e nutrizione enterale e terapia insulinica se leggiamo tutto quello che c'è nella slide penso che possiamo essere tutti d'accordo e pensiamo che questa sia la nostra prassi consolidata in verità l'esigenza forse di rifletterci ancora è stata sentita almeno dai componenti del gruppo check for malnutrition refeeding syndrome è qualcosa che noi internisti abbiamo forse imparato a tenere più in considerazione in questo contesto delle semi intensive covid e con questo io ringrazio tutti e ci permettiamo di sottolineare quali sono stati i lavori di riferimento studiati in community e analizzati nelle discussioni diciamo interne al gruppo e grazie grazie Serena viene a parlarci di quello che è stato la loro produzione di questi mesi il dottore Salvatore Lenti benvenuto benvenuto noi nell'ambito di Fadoi io insieme a Mario Felice e altri abbiamo creato veramente un percorso sulla comunicazione durante questi 18 mesi abbiamo dovuto veramente ridiscrivere il tutto e ne abbiamo discusso in questo nostro percorso ha creato veramente un disagio psicologico noi siamo andati ad analizzare tutto ciò sapendo che la comunicazione la medicina interna lo consideriamo bellissimo quello che ha detto il prelato stamattina prima come un atto terapeutico cioè comunicare saper comunicare è come saper fare una buona toracentesi o altre manovre invasive e soprattutto permette attraverso il colloquio con i pazienti con la comunicazione e l'aderenza alla terapia noi diamo pochissimo spazio alla terapia i modelli di riferimento cioè io non è che sono simpatico su parlare meglio degli altri no non c'entra assolutamente niente abbiamo in tutti questi anni portato avanti della medicina basata sull'evidenza attraverso l'utilizzo di scale tipo la Kelby di Krembich o la Mesimodel che sono appunto delle prove tecniche di comunicazione che sono veramente messe sul grato ma questo dispositivo l'ho voluto mettere per due motivi uno perché già dieci anni fa la Fadoi inseriva le comunicazioni come una delle quattro componenti per una veramente ottima clinical competence e poi soprattutto perché il primo autore è stato il compianto in animatie quindi l'ho voluto mettere apposta per sottolineare come già dieci anni fa era una clinical competence però quando pensavamo di aver fatto tutto la pandemia ci ha detto aspettate bisogna dare alcune risposte le principali criticità che abbiamo voluto attuare delle strategie che non poteva essere dicendo lo facciamo bene prima potevamo proseguirlo anche dopo non è stato abbiamo avuto delle barriere esterne interne tutti avete avete visto come abbiamo lavorato tutti abbiamo lavorato in condizioni veramente molto limitanti il rapporto con i parenti non è esistito più il rapporto con i presenti è lo stesso e poi soprattutto siamo entrati in un vortice di stress e molti anche di burnout perché abbiamo perso tanti amici abbiamo perso tanti colleghi che ci hanno fatto riflettere molto la discussione che abbiamo avuto con gli avvocati quello che è stato che è cambiato completamente il lavoro le tre domande una quale potevano essere le difficoltà e cosa avevamo imparato e come potevamo metterle in pratica queste sono state quelle che è venuto fuori veramente questo rispecchia tutto quanto cioè noi medici eravamo terrorizzati era difficile comunicare con i parenti e con i presietti eravamo noi che chiamavamo appunto i parenti per informare e soprattutto abbiamo avuto un senso di dispersione l'organizzazione chi siamo cosa facciamo la cosa importante è che poi dopo abbiamo la cosa importante è che abbiamo collaborato con gli altri colleghi si sono abbattute le barriere tra la solidarietà con gli altri colleghi degli altri reparti prima eravamo considerati eroi adesso invece non questo effetto sta svanendo è mancato per noi un sostegno specifico e quindi la cosa che volevo dire qual è che si è stato affrontato più una prospettiva multidisciplinare e multiprofessionale è venuto fuori che dobbiamo essere dei solisti non più solisti ma dobbiamo ragionare come un'orchestra neanche più come squadra e soprattutto imparare le tecniche le strategie ma anche con tre proposte uno l'educazione e la formazione perché senza l'educazione nell'ambito del piano di studi universitario è la formazione alle tecniche di comunicazione secondo veramente formarsi sul campo sul campo perché attraverso il lavoro di squadra e di orchestra possiamo comunicare meglio e terzo dobbiamo dirlo il ruolo dello psicologo che ha avuto un ruolo ambivalente dove l'abbiamo utilizzato perché sia per i parenti sia per i pazienti che per noi operatori e poi soprattutto perché siamo stati contaminati e questa parola mi è piaciuta mettere questa parola perché in maniera proprio positiva questa contaminazione da parte degli psicologi ci è servita moltissima l'unico problema è che alcune volte la comunicazione può sembrare un'illusione di aver comunicato quindi voglio chiudere dedicando quest'ultima frase portandovi i saluti dalla mia nuova terra dal mio nuovo posto a Dante di Castel del Monte questa frase che voglio dedicare a Gualberto Cussone che mi è piaciuto moltissimo che nessuno può fischiettare una sinfonia ci vuole un'intera orchestra per riprodurla e credo che sia lo spirito proprio di Fadoi grazie gestione a distanza del paziente complesso la medicina digitale quindi un tema particolarmente attuale prego Gabriella salve a tutti mi faccio portavoce di quelle che sono le risultanze del nostro gruppo di lavoro sulla medicina digitale ringrazio anche il Filippo e Flaio Tangiano che sono stati attivi quindi hanno lavorato come tutor insieme a me il Covid-19 ha accelerato le health sicuramente noi sappiamo che ha determinato un'accelerazione dell'innovazione organizzativa per quanto riguarda i percorsi assistenziali la tecnologia informatica quindi emergente potrebbe supportare le misure esistenti consentendo il monitoraggio ecco-spedaliero dei pazienti che poi noi dimettiamo e la condivisione delle varie cartelle cliniche tra gli operatori sanitari questo è il campo della medicina digitale dove noi sappiamo che esiste l'M-Elt il P-Elt il Big Data ma soprattutto la telemedicina che è un argomento estremamente attuale che cosa è la telemedicina è l'insieme di servizi medici a distanza all'interno di una specifica disciplina medica possiamo distinguere nel suo ambito una televisita che è un atto medico in cui il professionista può interagire a distanza con il paziente o anche con il suo caregiver il teleconsulto che è invece un atto medico in cui il professionista ha la possibilità di confrontarsi con altri colleghi a distanza o ancora la teleconsulenza che è un'attività specifica delle professioni il sanitarie secondo cui ci sta un confronto a distanza che però non riguarda unicamente figure professionali mediche questo è il primo risultato del nostro lavoro ovvero noi abbiamo effettuato un'analisi SWOT della telemedicina stimando quelli che sono i punti di forza le opportunità i punti di debolezza e quelle che sono le minacce e lo apprende tutto per quanto riguarda i punti di forza dobbiamo dire che sicuramente un grande vantaggio soprattutto durante la pandemia covid è la riduzione degli spostamenti e quindi la riduzione di possibili fonti di contagio per quanto riguarda i nostri pazienti unitamente alla riduzione dei costi nonché alla riduzione degli accessi in ospedale per patologie meno complesse come nel caso dell'esibizione di esami strumentali o anche esami ematochimici molto importante anche l'opportunità ovvero aumentare la frequenza dei contatti tra il clinico e il paziente per poter anche in maniera molto rapida identificare quelli che possono essere di campanelli di allarme di reacutizzazione di patologia per cui poi attraverso tale contatto il medico può convertire la visita da virtuale in visita in presenza con possibile riduzione delle ospedalizzazioni o ancora la possibilità di condivisione di dati su un'unica piattaforma di data sharing tra professionisti e un confronto produttivo e più costante tra i vari colleghi per quanto riguarda attraverso il teleconsulto quali sono invece le debolezze allora possiamo dire come la debolezza può essere la disponibilità e la familiarità del paziente o del caregiver con gli strumenti digitali o ancora la mancata adeguatezza delle infrastrutture su tutto il territorio nazionale o il paziente o il caregiver non idoneo quali sono i nostri timori possono essere il distacco umano la ridotta confidenzialità o ancora quale può essere la percezione dell'utente ma sicuramente le potenzialità dell'health della medicina digitale sono molte e sono anche state dimostrate da vari studi soprattutto in termini di riduzione delle ospedalizzazioni e della mortalità per cause cardiovascolari come per quanto riguarda gli studi sullo scompenso e il cardiaco qual è la novità sicuramente il ministero della salute da questo punto di vista ci è venuto incontro il fornente una serie di indicazioni con un piano nazionale il 27 ottobre del 2020 che hanno definito quelli che sono i criteri di elegibilità del paziente che possiamo seguire in regime di telemedicina deve essere un paziente che deve essere inserito in un follow up di patologia nota deve essere inserito un PDTA formalizzato a livello regionario ancora un paziente che necessita di monitoraggio di conferma della terapia o anche di visualizzare l'esito di determinati esami di cui siamo in attesa quali sono i limiti sicuramente non possono essere inseriti in un sistema di telemedicina i pazienti che hanno reaccusizzazioni di patologie croniche o ancora i pazienti che hanno uno stato di fragilità o di disabilità che renderebbe imprudente la permanenza del paziente a domicilio questo è il nostro progetto di telemedicina del nostro gruppo che ha definito quindi la tipologia del paziente secondo i criteri di cui abbiamo parlato questo è un progetto del paziente complesso affetto da scompenso cardiaco le attività del paziente stesso nonché quindi delle varie figure che intervengono quindi dal caregiver al medico all'infermiere nonché anche con il materiale di supporto fornito durante la visita a un diario clinico per il paziente un materiale informativo quale una brochure di patologia o ancora un fascicolo virtuale comprendente anche il trattamento dei dati personali queste sono le conclusioni io ho concluso con questa immagine ovvero le nostre conclusioni sono l'internista perché sicuramente ci troviamo di fronte a una tematica con grande potenzialità per il futuro abbiamo una regolamentazione ma si tratta di contenitori vuoti che noi internisti abbiamo il compito di riempire attraverso dei progetti quindi questi sono i nostri propositi per il futuro come gruppi ovvero quello di formare degli esperti di telemedicina quelle di riempire con dei progetti nostri quali internisti mirati appunto alla telemedicina e chiaramente a beneficio dei pazienti grazie grazie Gabriella il dottor Montagnani in questo lavoro ha cercato di approcciare l'impatto che la pandemia Covid-19 ha avuto sull'organizzazione sui assetto organizzativi dei reparti ospedalieri e in particolare su quelli di medicina interna con un taglio particolare quello della visione della governance del sistema ora qual è lo scenario nel quale ci siamo trovati la pandemia ha alterato le nostre certezze professionali inducendo delle responsabilità gestionali nuove abbiamo assistito a una destrutturazione organizzativa dei nostri sistemi alla creazione di aree di iCare dove la complessità e la multidisciplinarietà sono stati appannaggi della competenza dell'internesta abbiamo vissuto una situazione molto particolare quella in cui la nostra esperienza di formazione e di ricerca ha dovuto confrontarsi con una mancanza di evidenza cui invece siamo abituati normalmente questo soprattutto nelle prime fasi quindi la necessità di dare un valore noi stessi alle informazioni che venivano di volta in volta date dal punto di vista scientifico abbiamo operato in un ambito di ampio rischio clinico sono stati introdotti nuove tecnologie e la necessità di una rapida formazione del personale e quindi come si è detto precedentemente anche la necessità di nuovi strumenti di comunicazione ora se fate attenzione ciascuno di questi elementi rappresenta uno dei pilastri del governo clinico il governo clinico quindi non è una situazione avulsa dalla nostra esperienza clinica quotidiana ma ne è parte integrante e se è vero come è stato detto come dimostra ancora questa diapositiva che la medicina interna ha ricoverato la maggior parte dei pazienti covid è proprio la medicina interna quindi che spetta secondo noi il compito di fare una proposta che sappia trarre da ciò che è stato vissuto degli elementi nuovi per una proposta futura il tema del progetto è stato quello dell'organizzazione dell'area miliche subintensive ora il tema coincide con quello che è stato presentato anche precedentemente dal presidente nella sua relazione ma questa coincidenza non è evidentemente casuale ma non è anche una conseguenza è stato c'è una proposta gemmata direttamente dal gruppo questo probabilmente ha dimostrazione che gli intenti progettuali della Fadoi sono particolarmente vicini poi a quello che è il progetto individuale della pratica clinica che noi viviamo quali sono gli obiettivi del progetto? beh quello di organizzare una risposta clinico assistenziale che sia proporzionata al bisogno di salute quella di codificare le caratteristiche di gestione del paziente del paziente che deve accedere a queste aree e creare dei moduli clinico assistenziali che siano definiti sia in termini di struttura e di risorse umane si tratta quindi di costruire una definizione dei criteri di selezione dei pazienti della dotazione strumentale e strutturale necessaria definire gli organici e anche i tempi di formazione dello specialista impegnato in questa area e del personale infermieristico impegnato a tutto questo però deve necessariamente poi coincidere la disponibilità di una volontà del management aziendale per poter determinare l'operatività concreta di questo aspetto infine dare una votazione quantitativa degli indicatori il nucleo è quindi quello di creare delle high care all'interno delle unità operative di medicina interna che abbiano una adeguata formazione e presenza di personale punti di forza sono miglioramento efficienza e garanzia di questi moduli e soprattutto una corretta allocazione del personale per decongestionare le aree critiche la debolezza e come sempre la resistenza al cambiamento la necessità di leadership di gestione e soprattutto il riconoscimento delle risorse aggiuntive indicatore attesi sia dal punto di vista indicativo quello di qualità percepita ma anche dei risultati gestionali con un maggiore indice di complessità dei pazienti trattati e un miglioramento delle performance organizzative grazie grazie Lario grazie mille c'è qualche domanda da parte del pubblico abbiamo qualche minuto prima di passare la parola poi a Gigi Magnani per la conclusione che con message beh allora inizio io una domanda diciamo generale mi dovremmo piacere che fosse diciamo ognuno di voi può dare la risposta purtroppo il tempo come avete visto vi ringrazio perché siete stati rapidissimi nei pochi minuti a disposizione avete dato un buon escursus quindi la domanda che facevamo siccome anche Gabriella non so dove è andata siccome il progetto è unitario e anche gli argomenti sono estremamente come ha illustrato il dottor Fontanella all'inizio sono estremamente compenetrati fra loro vi chiedevamo siccome la progettualità proprio di Euclide prevede poi la creazione di un documento unico anche con una progettualità editoriale ed eventualmente anche una proposta di tipo diciamo formale organizzativo di un percorso come pensate ognuno di voi come pensa di poter integrare il proprio progetto con gli altri prego vai salvatore rompo il ghiaccio veramente pochi secondi per lasciare spazio ma io credo che attraverso questa nuova forma di comunicazione può essere veramente il filo rosso che tiene unite le varie tematiche soprattutto con i colleghi per il discorso della 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 tecnologia anche con l'utilizzo della della telemedicina e nel rapporto per esempio nei pazienti diabetici sull'utilizzo di nuove terapie quindi credo che possa poter dare veramente fortemente il contributo a puntista comunicativo sì forse il filo rosso che potrebbe unire tutti questi questi gruppi di lavoro potrebbe essere quello di identificare due ambiti importanti quello cardiovascolato e quello diabetico e su questi due diciamo asset importanti definire un protocollo per la gestione diciamo così extra ospedaliera la comunicazione verso i familiari e l'impiego delle nuove tecnologie e in questo modo noi riusciamo a coagulare su due aspetti fondamentali tutte le tematiche di cui abbiamo parlato sono d'accordo con Franco noi avevamo lasciato da una parte di riflettere sulle criticità della dimissione allora forse nell'analizzare il processo di dimissione in tutte queste cose in fondo possiamo far rientrare ospedale territorio comunicazione telemedicina sanità digitale e quant'altro diciamo inserirei questo aspetto sulla dimissione bene senza dimenticare che però poiché noi chiaramente in questo caso faccio cicero prodomo mia perché noi abbiamo un gruppo prettamente di mortalità diciamo di complicanze cardiovascolari e particolarmente noi ci occupavamo anche di diabete allora secondo me se noi ci focalizziamo su un aspetto la dimissione benissimo ma anche intra ospedaliero la nutrizione artificiale l'iperglicemia per esempio sarebbe un aspetto da forse da tenere in considerazione e quindi se noi volessimo un po' tirare le somme se ognuno di voi poiché ognuno di voi ci ha dato tre aspetti tre items da guardare da considerare se invece ne vogliamo tirar fuori solo uno del vostro gruppo Salvatore tu quale scegli tra i tre che hai scelto ma io veramente la contaminazione la figura dello psicologo ci ha aiutato tantissimo proprio veramente e credo che sia io e Gigi e Lara e lei sta dalla parte trainante che ci ha unito le nostre cose sì la contaminazione della parte dello psicologo bene primo aspetto la contaminazione secondo il follow up e la gestione del paziente dopo la dimissione è un problema che spesso ospedale e territorio ospedale e territorio domicilio gestione delle riacutizzazioni quindi il ringresso e il ritorno a casa e poi le riauspedalizzazioni beh come avete visto la nostra proposta era già unica perché abbiamo preselezionato l'argomento per rispondere alla domanda precedente direi che visto che tocchiamo elementi di comunicazione di ricerca clinica di telemedicina ancora una volta non vorrei essere di parte ma il tema della governance li racchiude e quindi credo che l'elemento unificante sia quello di poi tradurre in applicazione clinica e pratica ciascuna di queste proposte per il nostro gruppo se dovessimo basarci su quello che ha suscitato maggiore interesse direi sicuramente le tematiche di nutrizione e di corretta gestione nel setting del paziente diabetico diciamo questo è quello che ha suscitato più interesse però penso che se ci vogliamo uniformare i colleghi sull'aspetto introduzione di terapie che consentano un passaggio ospedale-territorio più rapido potremmo anche concentrarci su questo se vogliamo creare un link un link comune diciamo e invece il dottor Pieralli che parla per il gruppo della telemedicina delle innovazioni tecnologiche forse Gabriello dovuto uscire dall'aula ma io direi sull'innovazione tecnologica fondamentalmente che poi può fare da ponte sia la fase ospedaliera che la fase territoriale è sicuramente mi riallaccia quello che dicevi tu la parte della telemedicina quindi sviluppare questo aspetto anche per le progettualità future bene quindi contaminazione telemedicina ospedale-territorio mi manca l'ultimo di Serena qual è? dimissione diciamo forse dimissione nella quale facciamo rientrare tutti questi aspetti va bene va benissimo penso che è quello che ci unisce devo dire che abbiamo lavorato bene in questo gruppo diciamo ci siamo molto in questi gruppi voglio dire è stato questo che voi vedete è la summa di una serie di incontri che sono durati mesi abbiamo fatto il seminario maggio c'è ancora molto da lavorare però noi ci tenevamo a darvi almeno l'idea di quello che abbiamo fatto nonostante le difficoltà del momento per cercare di portare a casa qualcosa di concreto e a tal fine chiamerei sul palco il dottore Magnani che è quello che deve tirare poi le fila del tutto grazie a tutti voi nel senso che i take on message sono appena stati fatti mi avete bruciato tutta la conclusione e quindi credo che sia inutile ripetere cose che sono già state dette molto bene mi limiterò a condividere con voi alcune mie considerazioni insomma io credo che questo progetto Euclide sia stato qualcosa di davvero interessante perché è una cosa completamente non convenzionale io non credo che tre anni fa sarebbe venuto in mente a qualcuno di mettere insieme il cardiovascolare il diabete la comunicazione gli aspetti psicologici la telemedicina in un unico contenitore da cui fare uscire delle nuove idee dei nuovi progetti sì credo che non l'avremmo proprio fatto e l'abbiamo fatto forzatamente il covid diceva prima Andrea Fortanella è stato ha provocato una frattura penso che mentalmente tutti dividiamo il tempo prima che arrivasse il covid e dopo che è arrivato il covid è saltato tutto quello che è stata la fine del mondo per come lo conoscevamo in qualche modo la cosa che ho detto fa capire di che generazione sono è una citazione rock che qualcuno ha colto cioè ci sono saltati una serie di equilibri c'erano una serie di cose che ci sembravano molto importanti che improvvisamente non contavano praticamente più nulla e tutti i sistemi di lavoro abituali non erano più adeguati abbiamo dovuto inventarci delle cose nuove abbiamo dovuto ripensare in corsa il modello assistenziale che è stata una cosa veramente complicata difficile io vabbè mi è capitato spesso nella prima ondata del covid che che noi abbiamo preso in pieno di arrivare a casa la sera e non sapere cosa avrei fatto lì domani insomma per fare fronte però insomma in mezzo a questo disastro il covid è stato un potentissimo acceleratore ci ha costretto assolutamente a ripensare tutto quello che facevamo a cercare di renderlo più efficiente e qui sono venute fuori alcune cose assolutamente interessanti quindi la spinta alla digitalizzazione quanti anni sono che parliamo di spinta alla digitalizzazione penso che abbiamo fatto di più nell'ultimo anno di quanto non abbiamo fatto nei dieci anni precedenti ho sentito altre cose assolutamente fondamentali cioè pensiamo di esplorare delle aree che non erano per così dire presidiate ma forse non esistevano neanche quanto deve durare la terapia nel post covid per quanto riguarda la terapia antitrombotica non lo sappiamo sarà qualcosa che dovremmo cercare di capire che dovremmo cercare di cogliere la terapia del diabete va semplificata al massimo dobbiamo usare farmaci nuovi che abbiano delle caratteristiche che forse non ci interessavano tanto fino a qualche anno fa faccio riferimento ai GLP1 agonisti che sono stati citati prima questa è un'altra cosa interessante forse la cosa più più importante però credo che sia che non solo abbiamo capito che dovevamo cambiare quello che facciamo ma abbiamo anche capito ci siamo chiesti quantomeno chi siamo cioè che cosa siamo noi come medici come internisti sono uscite cose io facevo parte del gruppo sulla comunicazione e gli aspetti psicologici in certi momenti sembrava di stare in una seduta di autocoscienza collettiva sono uscite cose fragilità che probabilmente non avremmo mai neanche ammesso qualche tempo fa e credo che questo sia un passo avanti quindi dobbiamo pensare dobbiamo non solo saper fare saper coordinare saper organizzare saper comunicare ma credo che la cosa che abbiamo imparato forse più di tutto è quello che dobbiamo saper cambiare dobbiamo essere in grado di cambiare cambiare velocemente adattarci e trarre il massimo beneficio dal fatto di essere stati messi di fronte a una situazione per altri versi assolutamente drammatica sapete tutti la famosa frase che viene attribuita a Darwin che no non è la specie più forte quella che sopravvive è quella che meglio si è adatta al cambiamento probabilmente l'internista è una delle specie più adatte al cambiamento perché cambiamenti ne ha fatti tanti e credo che li farà anche in questa in questa occasione qualcun altro più saggio diceva che in qualsiasi grande crisi si nascondono grandi opportunità io spero che noi come internisti e soprattutto come società saremo in grado di coglierla grazie buonasera a tutti io sono onorato di presentare questa lettura perché prima di tutto è un argomento attuale molto importante dal titolo l'utilizzo degli anticorpi monoclonali nel paziente affetto da covid-19 la seconda cosa per cui sono onorato è perché invito sul palco il relatore che è Giovanni Di Perri professore ordinario di malattie infettive all'università di Torino ma è soprattutto il figlio del mio maestro il figlio del professor Tullio Di Perri che è clinico medico di Siena che è stato uno dei padri diciamo della semiotica medica italiana insieme ad Angelo Canigia mi commuovo ancora a ricordarlo perché ricordo l'ultima volta che lo vidi mi disse io stavo andando per la prima volta in Lombardia Nicola ricordati che un internista deve avere sì la preparazione l'intuito che è innato ma deve avere una grande curiosità chiediti sempre il perché delle cose mi commuovo ancora a ricordarlo prego Giovanni è come non volergli bene insomma ci siamo conosciuti da poco mi tratta così e poi mi presenta come figlio di internista quindi dovresti un po' accettarmi insomma anche se vengo dalla specialistica ovviamente grazie Nicola è un gran piacere essere qui e parlare di un argomento evidentemente che ci interessa particolarmente fra l'altro ne invito a Firenze io sono la mia professione è essere tifoso della Fiorentina il mestiere è poi un hobby francamente per cui ogni volta che vengo a Firenze mi sono anche messo la cravatta d'ordinanza proprio per rispettare la sede sono senesi per un senese essere della Fiorentina se lo è lo è veramente ecco questo va detto perché sono bianconeri anche loro purtroppo allora argomento insomma vabbè poi c'è di tutto si capisce si scherza almeno questo grazie Nicola grazie di cuore anticorpi monocronali un qualcosa che ci vede insomma come medici in esercizio da molto tempo per cause insomma particolari io credo debba pigiare vero e basta dovrebbe andare da sé forse non sono bravo ah ecco era al sinistro questi sono i miei potenziali conflitti di interesse allora questa è secondo me la diapositiva più importante per chi si occupa di covid perché è stata è una malattia che abbiamo ci abbiamo messo del tempo a interpretarla oggettivamente non ci è stata trasmessa a fine febbraio dell'anno scorso dai cinesi così ci è stato detto era una polmonite virale tant'è vero noi per usare gli steroidi ci abbiamo messo un po' di tempo perché nella polmonite virale vera lo steroide è quasi sempre controindicato a meno di condizioni particolarissime quindi questo per dire ed è una malattia effettivamente che ha una sua fase veramente infettivologica all'inizio ci si infetta il virus si replica il virus si diffonde in chi ha un minimo di evoluzione però la fase successiva diventa infiammatoria per poi diventare poi un'infiammazione che lede organi in particolare evidentemente il più delicato in questo senso è il polmone e quindi la storia la si conosce se vogliamo se esiste una modellistica che possiamo richiamare alla fine mi viene in mente solo la malattia reumatica in cui c'è un esordio infettivologico in cui l'antibiotico può avere tutto un suo ruolo ma poi l'antibiotico non conta più niente a un certo punto perché se si scatena la conseguenza questa poi va ammortizzata anche lì con l'antinfiammatorio o con quel che poi può essere necessario sappiamo anche che il 50% è asintomatico che il 30% fa una malattia comunque autorisolventesi che c'è un 20% che va a soffrire gravemente un 5% criticamente e un 2% di mortalità la fine di febbraio i cinesi ci inviarono questa e ci dava il rischio di morte per età però ovviamente è associato a una serie di condizioni poi c'è stata la magnifica lettura di Anthony Fauci per cui da questo punto di vista non possiamo aggiungere nulla la cosa che effettivamente però colpisce se andiamo proprio a guardarci i numeri e analizzarli è che effettivamente l'età singolarmente tende a contare più di una serie di condizioni che ovviamente se associate come spesso succede in chi invecchia ahimè ovviamente vanno a concorrere a formare un profilo che evidentemente è particolare allora gli anticorpi monoclonali dove si inseriscono si inseriscono nella volontà di riuscire a colpire in questa fase precocissima e la precocità è il nostro limite siamo riusciti pochissimo a intervenire il primo il secondo giorno perché è lì veramente che l'intervento paga e paga la notizia era anche di ieri sia come intervento con gli anticorpi monoclonali ma anche con gli antivirali cioè laddove e allora quando un'inibizione del virus una ridotta invasione del virus conta è nei primi giorni se aspettiamo a guardare come va nonostante sia 66enne diabetico obeso iperteso eccetera gli neghiamo un'opportunità che adesso andiamo a vedere che è quella degli anticorpi monoclonali questo è un surrogato di fattore predittivo ovvero averci molto virus all'inizio alla fine insomma tutto sommato si va a sovrapporre con gli altri fattori di rischio però ci dà anche il razionale per ridurlo questo virus perché evidentemente se è vero che tanto virus si correla un'evoluzione peggiore ma se noi riusciamo a ridurlo effettivamente la cosa dovrebbe funzionare quindi gli anticorpi monoclonali semplicisticamente riteniamo che agiscono soprattutto legandosi al virus e impedendone il suo legame con il nostro recettore ACE2 che sappiamo essere presenti in particolare nelle vie respiratorie ciò ci interessa allora il tutto nasce dalla volontà di studiare il plasma di soggetti guariti è stato fatto con Ebola è stato fatto in altre circostanze in cui non avevamo nulla in mano se fatto su pazienti ospedalizzati ovvero già gravi non funziona assolutamente se fatto a diciamo vedete questo è un 92% già in ventilazione assistita se fatto viceversa invece selezionando soggetti con un titolo alto nelle prime 72 ore vedete come 72 ore dall'ospedalizzazione qualche cosetta fa allora alla fine gli anticorpi monoclonali che cosa non sono altro che il tentativo di identificare nel plasma convalescente dei soggetti guariti quelli che possono essere gli anticorpi con effetto maggiormente neutralizzante e poi farli produrre con il solito schema che abbiamo ovviamente produzione di cellule umane immortalizzate oppure di topo umanizzato ed ecco che esce il primo lavoro di fase 2 del BAMLANIVIMAB da solo come end point ci dà la riduzione della carica virale e qualche cosetta fa dosaggio di 2008 soprattutto sono pochi i pazienti quello che è interessante è che riduce l'ospedalizzazione e allora da lì effettivamente si prende coraggio BAMLANIVIMAB è stato poi vedete purtroppo queste casistiche sono inquinate da troppi soggetti non a rischio questo è un po' un difetto di tutte queste sperimentazioni dovremmo lavorare solo dai 60 anni in su per capirci subito qualcosa per avere dei numeri più facilmente interpretabili il BAMLANIVIMAB viene tolto perché non è attivo un granché contro le varianti ma insieme all'etesee VIMAB produce questi risultati minore ospedalizzazione sulla sinistra sulla vostra sinistra riduzione importante della carica virale sulla destra soprattutto in chi ha cariche evidentemente alte la REGNCOV2 2 2 casirivimab e imdesimab indevimab perché poi lì per pronunciarle ci vuole un po' di pazienza allora cosa succede la strategia qui mettiamone due perché uno selezionerebbe immediatamente la variante loro hanno avuto questa esperienza nella fase sperimentale col subtavumab e alla fine tirano fuori questi due anticorpi che funzionano piuttosto bene hanno un effetto intorno al 50% di riduzione dell'ospedalizzazione e hanno soprattutto una riduzione vedete della carica virale in chi in chi ce l'ha più alta cosa molto importante perché effettivamente si correla a una perdita diciamo di rischio a un calo del rischio di morire niente da nominare sugli effetti collaterali non commento nemmeno per non perdere tempo studio di fase 3 che è appena uscito combina vari bracci di fase 2 3 nel senso che c'era anche un dose finding study comunque alla fine vedete l'effetto c'è e il ribadisco che effettivamente da questo punto di vista è molto criticamente legato al ruolamento nei primi giorni Sotrovimab l'ultimo uscito questo è lo studio di fase 2 3 il più piccolo pilota 291 però molto ben gestito già un 33% mi piace di più di soggetti al di sopra dei 65 anni uno studio che si rende un po' più facilmente interpretabile una inibizione intorno diciamo una riduzione intorno all'85% dell'ospedalizzazione questo studio cresce diventa un studio di fase 3 che è disponibile con queste slide effettivamente vedete come è importante si ribadisce sulla destra il 59% entro i primi 3 giorni ma tutto il resto comunque entro i primi 5 giorni cioè non c'è veramente tempo da perdere cosa che tendiamo un po' a fare nelle farraginosità di ottenere permessi eccetera nel nostro mestiere in Italia alla fine vedete una buona rappresentazione rappresentatività dei soggetti con età avanzata altri fattori di rischio se una cosa ho imparato negli ultimi 15 anni già con le influenze che ci sono state quelle epidemie la suina eccetera è l'importanza dell'obesità come fattore di rischio per le infezioni devo dire che quando diventai infettivologo non lo capii subito forse c'erano anche meno obesi e forse erano anche più magro io e mi ponevo meno il problema però di fatto ecco l'obesità è un fattore abbiamo 35 anni con il covid in ventilazione effettivamente perché spesano 140 chili insomma ecco questo è un problema effettivamente che va chiarito forse sarà anche uno stress vedete anche questo funziona funzionano più o meno tutti nello stesso modo nella stessa misura se effettivamente il trattamento viene fatto immediatamente quindi vedete il sotrovimab qui è la filosofia dell'unico anticorpo monofonale che diciamo compete con quella a due che abbiamo visto prima però tutto sommato alla fine sembra effettivamente vedete se si va a confrontare in vitro contro le diverse varianti il sotrovimab effettivamente è attivo e questo è molto confortante perché in questo momento sta girando la delta e non ci sono particolari avvisaglie che un'altra e peggiore variante stia bussando alla porta gli anticorpi già li usiamo in malattie infettive nell'HIV usiamo ibalizumab contro il recettore CD4 vedete il calo virale è quello lì non è sto granché perché se andiamo poi a confrontare il calo virale dato da un antivirale molto più effettivamente significativo però effettivamente anche in questo contesto funziona li usiamo per il bacillus antracis per la sua tossina li usiamo per il crostidon difficile il più recente ovviamente per la rabbia ma sono interessanti gli anticorpi monoclonali hanno effettivamente delle proprietà che non sono magari presenti a tutti in particolare legate a che cosa al suo frammento FC al gambo lungo dell'Y e grazie a Bramble sono state scoperte alcune proprietà nel senso in particolare il recettore neonatale quello che permette al neonato di assorbire dal latte materno le immunoglobuline per qualche settimana forse per qualche mese è un recettore che effettivamente sembra poi rimanere nei nostri globuli bianchi o anche nelle nostre cellule endoteliali capace di vedete questi sono esperimenti sul topo con o senza questo recettore di Bramble ma è molto più chiara questa cioè nel senso che il monocita macrofago la cellula endoteliale si prende l'anticorpo se lo mette in una vescicola endosomiale non lo degrada e lo restituisce in circolo magari una quindicina di giorni dopo questo ci spiega perché il monoclonale è comodo lo possiamo andare ogni tanto a una frequenza effettivamente bassa da questo punto di vista ecco agisce anche in un altro modo prima abbiamo visto semplicisticamente lega il virus e basta probabilmente sì lega il virus ma lega anche la cellula che presenta l'antigene e quindi facilita probabilmente il monoclonale anche una citotossicità antigene specifica e quindi anche questo questo non è molto misurato in questi anticorpi monoclonali che stiamo usando lo è più in altri settori però verosimilmente funziona anche così il problema è che ne sono arrivati pochi sulle ultime diapositive abbiamo sofferto moltissimo abbiamo i frigoriferi pieni di monoclonali in ospedale perché il medico del territorio non ce li manda se ce li manda ce li manda tardi quando ormai è inutile allora il problema è che cosa fare che cosa fare con i monoclonali che cosa fare anche con avete sentito ieri l'antivirale sta in fase 3 va molto bene insomma ci sono prospettive di curare di sfruttare quella primissima finestra di infezione però va fatto subito alla svelta eccetera allora con la pillola si salta l'ostacolo del medico di base te la tieni a casa e quando hai primi sintomi venerdì sera te la prendi poi il tampone lo faremo il monoclonale no il monoclonale non è che puoi allora su questo però bisogna cambiare sentivo prima bisogna cambiare ad adattarsi giustamente l'animale che sopravvive è quello che si adatta prima e allora magari qui l'animale è forse il medico inteso ma in questo caso anche il paziente il paziente si deve adattare e allora io ricevo telefonate di amici di amici di amici che quello che ha letto sul giornale e anziché magari andare sull'ivermectina sull'idrossiclorochina su qualche altra spazzatura va mi fido questi mi sembrano buoni e riesce magari il giorno dopo arrivare in ospedale saltando tutti i filtri però questo è un problema ed è un problema perché vedete c'è qualche iniziativa ho preso l'Emilia Romagna ma c'è la Puglia la Campania il Veneto si stanno muovendo per avvicinare il paziente al monoclonale perché questo va fatto assolutamente quindi organizzarsi con competenze anche rianimatorie perché un anafilassi l'abbiamo avuta eravamo in ospedale l'abbiamo gestita ma magari ecco su queste cose di non andare troppo leggeri anche perché i monoclonali vedete in chi non risponde al vaccino in chi non può accedere al vaccino per problemi individuali eccetera beh può fare i monoclonali in profilarsi e guardate che funziona benissimo cioè sono un vedete proteggono dall'infezione ma se per caso prendono l'infezione è un'infezione meno grave guardate meno sintomi meno virus eccetera quindi il monoclonale non sarà solo per la terapia precoce ma spero che il ministero dal quale bussiamo da tre mesi almeno ci dia insomma io sono soggetti che stanno facendo ruxolitinib rituximab che hanno i globuli bianchi brasati cosa volete che rispondano al vaccino allora questi nel corso della terapia che ancora gli rimane proteggiamoli con i monoclonali vi ringrazio per l'attenzione grazie mille Giovanni hai finito in anticipo di cinque minuti e cinque le abbiamo per la discussione no ma perché qui suonano le campane per cui ero un po' in in azione quindi è aperta la discussione se qualcuno ci sono tante domande sicuramente io te ne volevo fare già una intanto si prepara qualcuno l'AIFA dice che bisogna fare gli anticorpi monoclonali entro dieci giorni non credi che sia virtù anche di quello che dice quello che sappiamo troppo lontano che dovrebbe essere sono le indicazioni di marzo esatto sono le indicazioni di marzo bisogna fare cinque giorni al massimo e l'altra cosa non credi sia un po' restrittiva su delle categorie per esempio già l'età è vero che dicevi che i pazienti che hanno più di 65 anni hanno una probabilità maggiore di infettarsi però se un paziente diabetico ha altri fattori di rischio ma ha meno di 65 anni sono d'accordo no 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 assolutamente sì perché poi bisognerà fare una riflessione su chi rischia cosa e perché è vero che il 96% delle morti sono oltre i 60 anni ma è anche vero che insomma ci sono persone che sono state un mese e mezzo in rianimazione anche se non sono morte è stata un'esperienza effettivamente che li fa alzare alle 4 di notte e che francamente se si può evitare con questi monoclonali evitiamo costano fra i 1.5 e 2.000 euro se proprio magari sono in fascia per coloro che sono palesemente a rischio diamo comunque la possibilità a qualcuno magari di pagare di una compartecipazione se proprio non appartiene a quelle categorie la gente ha paura è disposta a pagare per cui insomma comunque rendiamoli disponibili poi deciderà lo Stato come ma però ecco qualche domanda dalla platea ma è sempre un'iniezione qualcosa di non sperimentare allora grazie mille per la bellissima relazione volevo sapere una cosa ma l'FDA non è approvato i monoclonali anche sopra i 12 anni e noi siamo ancora in attesa di questo credo di sì sì andiamo sì hanno credo trattato 250 persone ma insomma non c'è dubbio perché non devono andare bene alla fine cioè io non mi farei tutte queste pruderie ecco sono perfettamente d'accordo fra l'altro il bambino ematologico è un bambino che potrebbe essere protetto con questi io credo sì mi dicono dalla regia che bisognerebbe fare la domanda sul tablet leggo questa che viene da casa alle 6 il treno allora nella professore Di Perri nella sua esperienza i tempi di incubazione e quindi di tempistica dell'evoluzione dell'infezione non sono notevolmente anticipati rispetto alle tre fasi da lei presentate a seguito della prevalenza della variante delta e questo non può influenzare la necessità di ancora maggiore precocità della terapia con anticorpi monoclonali anti SARS-CoV-2 per esempio essere davvero più efficaci sì sì ha perfettamente ragione cioè la situazione ideale è ieri amico di Venezia 86 anni vaccinato si infetta con i bimbi che torna dall'elementare cioè lui insomma fa il tampone e mi chiama immediatamente lì non bisogna perdere tempo ieri era venerdì sera ho fatto l'ambaradano eccetera oggi alle due gli hanno fatto il monoclonale chiamando amici eccetera non deve funzionare così ecco questo è il problema perché e ha ragione chi lo so andrebbe fatto ore dopo l'inizio dell'infezione in chi è veramente a rischio perché è la fase in cui il virus si sta replicando e sta invadendo gli diamo una mazzata in quel momento anticipiamo la nostra risposta immunitaria con questi monoclonali diciamo preformati e beh a quel punto sono perfettamente d'accordo prego ormai grazie anche io sono stato un allievo di papà suo e quindi io lo ricordo con la stessa con la stessa promozione di Nicola lo dico subito così almeno io volevo volevo chiederle il rapporto fra il monoclonale e il vaccino cioè il livello di protezione che noi otteniamo con il monoclonale è comparabile a quello che si ottiene con il vaccino se sì per quanto tempo se no possiamo fare un vaccino e in quali soggetti scegliere se farlo o non farlo per esempio beh certo sì a volte c'è un conflitto fra le immunoglobuline e lo stesso vaccino nel tetano si dice che si danno insieme anche c'è una ferita brutta c'è un qualcosa che non ci piace lo immunizzo ma lo proteggo anche qui è incerto insieme non l'hanno ancora fatti perché il pericolo qual è? che va ad allegarsi all'antigene espresso dal vaccino per cui poi non succede più niente questo è un po' un pericolo ma insomma sostanzialmente c'è un lavoro su New England che con una singola somministrazione sono protetti per almeno due mesi i casi sono stati studiati in contatti familiari di appena infetti quindi hanno fatto un placebo controllato in cieco con l'iniezione di fisiologica un bello studio ecco devo dire la verità il problema è capire quanto durerà quanto durerà la protezione da monoclonali beh insomma le due cose sono conciliabili il problema è che al momento non ci sentono a usarle in profilassi e questo mi mette a disagio perché ho i frighi pieni perché le persone hanno paura mi piacerebbe poterli dare una mano ci sono altre due domande da casa buonasera professore entro cinque giorni dalle storie dei sintomi o dall'ospedalizzazione o dal tampone positivo dal tampone positivo dal tampone positivo un'altra domanda difficile selezionare per la terapia monoclonale i pazienti nella fase precoce del contagio questa volevo io poi farti una domanda ce n'è un'altra quindi se uno non può fare il vaccino può fare il monoclonale ma è un protocollo autorizzato dall'AIFA giova a noi internisti a noi il nome e cognome non è autorizzato spero lo sarà daranno delle categorie inquadreranno il problema affinché non sia appunto come veniva spifferato giustamente dalla platea uno scherzo dice io sono vax mi faccio l'immunoglobinio ogni tanto sì a 2000 euro ogni due mesi insomma francamente ecco voglio dire in realtà credo che chi effettivamente non lo potrà fare chi non risponde potrà secondo me accedere e prima o poi succederà che ne stanno arrivando troppe e ne faccio l'ultima che è molto interessante professore ha esperienza sui pazienti monosoppressi come profilassi? no purtroppo vorrei averla gliele vorrei dare il problema è che il computer non me li accetta perché sono farmaci evidentemente sottoposti a restrizione ma ci sono almeno due studi clinici con metodologia accurata con statistica eccetera che dicono che funziona benissimo io volevo farti una domanda che abbiamo già fatto nei lunedì covid che è molto interessante sono cattivo anche ci sono delle discrepanze notevolissime tra regione e regione tra il numero di prescrizioni Bassetti diceva ti ricordi che a Genova va veramente l'interlocutore più importante è il medico di medicina generale perché per la precocità e per la non situazione diciamo grave della patologia credo che sia l'interlocutore più importante ma se in Piemonte soprattutto in area extraurbana in area urbana uno sa dove andare più o meno perché insomma in area extraurbana hai il tuo medico e vai da lui e si fatti il tampone e vai la coda al tampone ti refertano il tampone porti il tampone dal medico speriamo ci sia o speriamo risponda al telefono intanto i giorni passano a quel punto butti via tutto che vogliamo fare questo è il problema siamo d'accordo che questo è il problema finirà così finirà così finirà ok ringraziamo il professore Di Perri grazie a voi tutti grazie grazie ciao ciao grazie a voi 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 per me è un onore un piacere moderare ovviamente Mauro Campanini e Francesco Cipollini con i quali ho lavorato per molti anni all'interno della nostra società scientifica e anche perché questo che loro si aggiungono a presentare è un lavoro a mio avviso fondamentale lo abbiamo detto fra noi più volte però noi sappiamo che ancora se uno deve studiare la semiotica i testi sono quelli di quando diciamo noi studiavamo sostanzialmente quindi di una semiotica che è sempre importante perché noi parliamo tanto di tecnologie di telemedicina di televisita tutte cose meravigliose perché poi ci consentiranno di avere comunque una serie di dati in mano anche se non siamo lì a visitare il paziente però le mani sul corpo del paziente rimane sempre un qualche cosa che sarà non facilissimo da sostituire soprattutto in alcune parti dell'esame obiettivo detto questo però la semiotica come vedremo va avanti quindi recupera una parte ancora essenziale della vecchia semiotica ma soprattutto la grande novità di questo test e di quest'opera è quella di considerare l'ecografia per la quale insomma ci siamo battuti veramente tanto e soprattutto bisogna dare onore e merito a Francesco per la scuola che ha messo su per i corsi insomma però l'ecografia diventa sta diventando veramente il braccio armato dell'esame obiettivo a letto del paziente e quindi era molto innovativo e logico diciamo implementare in un testo questa visione nuova quindi di una semiotica appunto del ventunesimo secolo non non tolgo altro spazio ai colleghi l'invito a presentare appunto questa loro opera che per Fadoio credo abbia una straordinaria importanza veramente grazie Carlo grazie della presentazione ma insomma l'idea del testo era nata durante la mia presidenza con Andrea e poi ha così ruoli invertiti in realtà con la presidenza sua io presidenza della fondazione ma il ringraziamento va ovviamente ad Andrea va a Dario per aver poi comunque permesso la realizzazione dell'opera quindi sia io che Francesco e vogliamo ringraziare anche quelli che sono stati i nostri collaboratori che in realtà nel corso del tempo un po' sono modificati e cambiati con tutte le difficoltà nel se conness di cercare di mettere assieme un po' di persone con ognuna o con una sua impostazione nell'ambito della stesura del testo però ritenevamo che fosse importante come diceva Carlo poi vedremo che gli testi attualmente in uso sono ancora quelli sui quali abbiamo studiato noi quindi chiaramente sono un po' datati ma fanno tutta una semiotica che allora aveva un significato perché in realtà non era supportata da nuove tecnologie quindi ringraziamento a Piero Davio a Del Casadei a Severio Mandetta a Beppe Zaccala a Oscar Epis e non ultimo a Giuliano Pinna che ha fatto un lavoro enorme perché era quello sostanzialmente di poter avere l'iconografia oltre alle immagini che sono tutte nostre quelle ecografiche anche degli schemi ma gli schemi e le figure perché sapete che il copyright non permette ovviamente di utilizzare immagini che non siano proprie inizio con quello che Dario ha scritto nella prefazione del testo nella formazione di uno studente di medicina la scoperta delle semiotiche è un passo molto importante una tappa fondamentale ed è proprio con la cerimonia con i nostri studenti del terzo anno che è la cerimonia dell'investitura del camice bianco che hanno il primo contatto con l'ospedale ed è proprio questo che in realtà cominciano a confrontarsi con la clinica e se si ha per fortuna un bravo maestro tutto è più naturale e più facile beh ecco io ho avuto un bravo maestro che era il professor Monteverde che in realtà era il mio docente di semiotica all'università e che appena laureato mi ha nominato assistente suo per la parte pratica ma per meriti sportivi perché allora giocavo a pallone e questo è stato sicuramente il criterio per il quale mi ha scelto allora la semiologia è la disciplina appunto che studia il rilevamento e l'interpretazione dei sintomi e dei segni con cui si manifestano le malattie è tuttora fondamentale l'anamnesi l'esame obiettivo ben condotto per orientarci nella diagnosi sappiamo come l'anamnesi è forse l'elemento più importante per orientare verso una corretta diagnosi e lo sviluppo della semiologia nel corso degli anni è andata di pari passo con l'ampliarsi di tutte le altre scienze mediche perché? perché questo ha permesso dall'anatomia l'anatomia patologica abbiamo sentito oggi la splendida lettura su Dante come in realtà le autosie permettono hanno permesso sostanzialmente di conoscere malattie ma chiaramente la fisiologia la fisiopatologia è tutto correla e permette sostanzialmente alla semiotica di svilupparsi ora abbiamo una semiotica fisica non entro in dettaglio ma questo soltanto per sottolineare come è molto la semiotica è qualcosa di non banale mi era stato detto qualche mese fa ma esiste ancora la semiotica? certo che esiste è fondamentale è fondamentale che venga insegnata e appresa e che venga coltivata perché è soltanto attraverso un continuo esercizio della semiotica che si riesce in realtà a interpretare correttamente quelli che sono i sintomi e i segni anche lì appena laureato avevo la responsabilità di 4 o 5 letti sentivo dei rumori in un paziente che visitavo a livello del torace mi diceva ma questi avranno significato chissà cosa saranno quindi è l'interpretazione di quello che noi abbiamo attraverso appunto la semiotica fisica ma anche la semiotica di laboratorio cioè la corretta interpretazione degli esami che noi possiamo fare a vari livelli sia dal sangue ma ovviamente al liquido ascitico eccetera alla semiotica radiologica che si avvale ovviamente di tutte le metodiche via via più sofisticate a una semiotica strumentale organica che valuta anche le funzioni l'elettrocardiogramma primi di tutti e che va chiaramente ed è necessario e fondamentale che l'internista sia in grado sostanzialmente di leggerlo e interpretarlo in maniera corretta e poi abbiamo l'ispezione non entro in dettaglio la palpazione la percussione tutte tecniche che in realtà vanno ovviamente delimitate rispetto ai tempi passati nel senso non ha più senso la percussione dell'aia cardiaca che ci veniva insegnata a noi durante il corso universitario perché? perché chiaramente abbiamo tutta un'altra serie di metodiche che sono molto più precise e sensibili l'ascoltazione invece è fondamentale che questa venga sviluppata in tutti i distretti dall'addome al torace al cuore ma perché? perché vedete come sostanzialmente dall'ascoltazione che noi anche noi non siamo riusciti non abbiamo effettuato in questo modo con la suora che metteva il telino e veniva ascoltato il torace con l'orecchio anche se alcune frequenze in realtà si sentono meglio con l'orecchio che non con il fonendoscopio è chiaro che questo è stato superato da che cosa? come ha detto bene Carlo dal fatto che abbiamo la possibilità di utilizzare delle metodiche di tipo ultrasonografico ma anche altre metodiche semiologiche sono negli anni a no via via sviluppate non tanto l'emogasanalisi che ovviamente è un presidio fondamentale da tanti anni ma la saturazione fino a 15 anni fa non era assolutamente un'abitudine utilizzare la saturazione nel letto del malato nei reparti di medicina interna questo progressivamente però ha spostato di molto il problema perché chiaramente è una tecnica molto rapida efficace ma che ci dà delle che ovviamente va interpretata ma delle indicazioni di grande utilità e abbiamo poi una semiotica funzionale che intende lo studio e la funzione degli organi per mezzo di indagini fra di loro che devono essere coordinate che partono sempre dall'analisi esame obiettivo ma che portano sostanzialmente all'integrazione di indagini anche strumentali di analisi come ho visto con la semiotica in realtà dei fluidi o dei liquidi o anche quello che sono il risultato di frammenti di tipo biotico questi sono i testi sui quali io ho studiato è stato sottolineato da Nicola anche il testo di semiotica del professor Canigia però sostanzialmente capite che sono testi che sono stati scritti negli anni 70 all'incirca o alla fine degli anni 70 al massimo all'inizio degli anni 80 e vedete come in realtà nelle prime pagine del sacchetti Ponassi vedete come indicava come porsi al letto del malato per la visita corretta questo è un qualcosa che va insegnato tuttora come diceva il mio professore di clinica medica o anche il professor Monteverde per esempio non va appoggiata la cartella a parte che adesso non portiamo più la cartella nel letto del malato ma non va appoggiata la cartella sui piedi del malato e lo stesso non ci si deve porre al letto del malato in maniera scorretta questo per dire che in realtà da questi elementi così semplici siamo passati a che cosa il fatto che anche quello che vedete quello che è così la summa di quello che le delle alleanze delle accademie delle medicine interne sottolinea come fondamentale come è fondamentale l'utilizzo dell'ultrasonografia al letto del malato e noi su questo ci siamo impegnati con tutti i presidenti che hanno preceduto che mi hanno preceduto da Nino a Carlo ma anche con Nanni e ovviamente come già stato detto con la responsabilità di Francesco Cipollini ma integrato da Marcello Romano e della Maria Grazia Panigada i corsi di ecografia e dopo un'interruzione dell'anno scorso per il disastro pandemico in realtà quest'anno riprenderà e abbiamo formato all'incirca 80-100 persone ogni anno su questo argomento sia con della parte teorica che con della parte pratica allora l'idea iniziale qual era del nuovo testo di semiotica medica il corpo del paziente l'occhio l'orecchio e la mano del medico in realtà il problema qual è che ci vuole sempre come è stato più volte sottolineato anche oggi da Cardinale la capacità di interagire con il paziente nel senso che nessun paziente rientra però pienamente soprattutto in medicina interna nello schema paradigmatico della patologia di cui noi pensiamo sia affetto quindi nessun trattato neanche il nostro sarà in grado di sviluppare nel discente quindi nei nostri studenti nei giovani medici negli specializzanti la capacità di avvicinare gli altri esseri umani che spesso sono sofferenti nella mente e nel corpo e di riuscire ad approcciarsi nel modo migliore possibile grazie non va forse penso che abbiano così no 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 era perché penso che l'avessero fosse chiusa ecco questo è il testo che a cui facevamo riferimento che abbiamo progettato circa due anni fa forse anche qualcosa di più che ha avuto delle vicende un po' diciamo così sono stati dei contrattempi legati anche alla pandemia ma che alla fine siamo riusciti a portare a termine e a presentare in questa sede che credo sia poi la sede diciamo così più idonea per presentare un testo fadoi raccolgo il testimone appunto che che mi che aveva presentato Mauro proprio perché la semiotica possiamo dire che ha avuto un primo grande momento quando dall'ascoltazione diretta si è passata all'ascoltazione mediata grazie appunto all'ennec nel 1816 lo stetoscopio che poi è evoluto e per tutto il secolo scorso è stato praticamente un po' l'emblema del medico il medico come era raffigurato col camice col fonentoscopio nella tasca oppure a modi cravatto oppure attorno al collo a modi sciarpo ma comunque era l'elemento è stato l'elemento caratterizzante ecco io penso che un'altra pietra miliare della semiotica sia ci sia nel 1953 quando per la prima volta gli ultrasuoni che erano stati già utilizzati durante la prima guerra mondiale vengono utilizzati per fare una diagnosi medica ecco negli ultimi anni c'è stato un grosso sviluppo tecnologico siamo passati a delle attezzature carrellabili portatili tascabili addirittura ormai come vedete è possibile avere nel taschino la sonda ecografica che si può collegare in wireless a uno dei nostri diciamo così tablet o addirittura smartphone ma soprattutto in questi ultimi anni cosa è stato verificato che non esiste specialità che non esiste organo nel quale non sia applicabile la esplorazione ecografica ecco per questo motivo che è diventato diciamo così uno strumento ormai irrinunciabile per la medicina e pensiamo per esempio in medicina interna ce lo raccontava prima Mauro quanti minuti abbiamo passati a fare una una percussione dell'aia cardiaca poi cercando di distinguere qual era quella assoluta da quella relativa quando oggi semplicemente con un'insonazione ecografica possiamo valutare con certezza e rapidamente determinati sintomi e allora ecco che oltre alla ispezione alla palpazione alla percussione e all'ascoltazione oggi è inevitabile che si aggiunga una quinta colonna nella semiotica che è appunto l'insonazione e sarebbe il momento che tutti quanti soprattutto chi è deputata la formazione quindi qui mi riferisco soprattutto alle scuole di medicina alle scuole di specializzazione si raccolga questo che ormai è un appello che viene da diversi anni cioè che ormai dobbiamo considerare l'ecografia come un'estensione dei nostri sensi così come il fonenzoscopio l'è stato per la generazione diciamo così nei tempi passati ecco proprio partendo da questa considerazione abbiamo avuto l'idea di fare questo testo che non vuole essere un trattato perché non lo è e è un diciamo così è un testo che se avete modo di leggerlo sarà appunto un testo essenziale con un corredo iconografico adeguato anche se chiaramente non esaustivo che vuole essere proprio una proposta un nuovo metodo di semiotica dove all'esame clinico fisico che è fondamentale l'abbiamo ribadito ed è il caso di ribadirlo va integrato anche l'esame ecografico questo è il diciamo così gli ha già elencati Mauro Campanini che insieme a me ha curato diciamo così questo lavoro in quali sono stati i nostri collaboratori che hanno avuto veramente una parte fondamentale senza di loro quest'opera non sarebbe stata possibile e come è strutturato come è strutturato è strutturato appunto in due parti una prima parte dove veramente abbiamo lasciato un piccolo capitolo sui fondamentali di ecografia cioè per dare proprio le diciamo così le indicazioni essenziali sulle conoscenze che bisogna avere in ambito ecografico e è stato fatto proprio un esame sistematico dove praticamente qui ho preso proprio una pagina per quanto riguarda l'apparato respiratorio dove alla semiotica fisica diciamo così tradizionale come vedete appunto che è stata illustrata mirabilmente l'ha già ribadito Mauro dal nostro collega Giuliano Pinna ecco associamo anche la parte ecografica ad integrazione dell'esame clinico al termine di ogni capitolo abbiamo pensato di fare un piccolo box riassuntivo dove puntualizzare quelle che sono diciamo così quali sono le cose che aggiunge l'esame ecografico rispetto all'esame clinico tradizionale abbiamo poi pensato di fare anche una seconda parte cioè come l'ecografia in realtà ha modificato il nostro approccio clinico a quelle che sono diciamo così le sindrome i sintomi prevalenti di interesse internistico cioè quelle che vediamo spesso nella nostra attività ecco anche in questo caso oltre a una parte descrittiva dove abbiamo riportato qui per esempio la dispnea viene anche poi illustrato una flow chart nella quale appunto viene elenquato in questo procedimento diagnostico quale ruolo può dare l'esame ecografico come diceva prima Mauro Campanini questo testo è stato possibile realizzarlo grazie appunto a un lavoro di squadra lavoro di squadra che è stato quello di chi insieme a noi ha collaborato alla stesura un ringraziamento anche a Edra Edizioni che ha curato la parte editoriale ma un ringraziamento particolare lo dobbiamo al consiglio direttivo della Fadoi in particolare al nostro presidente Mario Manfellotto che fin dall'inizio ci ha sostenuto in questa iniziativa ci ha supportato e grazie appunto a loro siamo riusciti a realizzare questo testo che mi auguro possa avere non soltanto diciamo così che non è soltanto indicato per noi internisti ma credo che sia un testo che possa essere di supporto anche agli studenti di medicina agli specializzanti e anche ai medici di medicina generale vi ringrazio che ci auguriamo quello era un dizionario se non sbaglio un dizionario di latino di latino sul campanino i cipollini viene anche bene perché perché credo che ora io ancora l'ho avuto ieri non ho avuto modo di sfogliarlo però ho capito come è impostato e credo che invece ci sia proprio la semiotica più moderna ecco e quindi fra l'altro io ho il piacere di fare la parte pratica dagli studenti di medicina e la faccio personalmente il più delle volte perché la trovo un'osos importante perché è il primo approccio che lo studente ha al paziente nel corso di laurea sostanzialmente ed è un imprinting forte quindi questo aspetto qui certo dell'ecografia sarà da prendere in considerazione anche per gli studenti come nuova modalità di approccio e quindi questo insomma bisognerà fare in modo che probabilmente anche nei corsi di laurea si vada verso un approccio di questo tipo perché poi in effetti ora con le tecnologie insomma basta insomma già con l'iPad e la sonda ci sono degli ecografi di prezzo diciamo ragionevole che consentono una definizione ottima allora volendo si può fare qualche domanda però sarebbe da fare sul tablet online perché mi dicono che non si può andare lì in quanto per le norme covid poi si può fare eccezione per un presidente io in realtà non volevo fare una domanda perché non c'è nessuna cosa da aggiungere a quella che in realtà è una presentazione volevo solo fare un'annotazione che è una cosa importante noi abbiamo visto come l'evoluzione della tecnica molte volte ha finito io tra l'altro le mie specializzazioni c'è anche quella in semiotica ed ero studente addetto all'esercitazione in semiotica quando stavo all'università cioè l'evoluzione della tecnica che avrebbe dovuto migliorare le capacità cliniche molto spesso ha finito per sostituirsi alla semiotica fisica che rimane comunque la base della valutazione del paziente insieme all'anamnesi a tutto quello che noi abbiamo imparato parlo da medico anziano e attempato l'opportunità a cui i giovani devono essere spinti è che la possibilità di una valutazione strumentale ecografica che poi ti dirime dei dubbi debba servire anche ad affinare meglio il reperto clinico che sia percussorio o ascoltatorio ecco quindi io vedo l'evoluzione di questo nuovo stetoscopio che è la sonda ecografica come la possibilità di potenziare le capacità semiologiche perché tu poi nella vita ti trovi sempre a tu per tu tu il tuo paziente le tue mani le tue orecchie e il tuo stetoscopio quindi è questo assolutamente sì cioè l'idea era quella effettivamente di non tralasciare la parte iniziale no abbiamo anche avuto una gestione comune dell'idea per cui era proprio quella di recuperare però le cose essenziali della semiottica dell'analisi dell'ambio obiettivo trascurando tutte quelle che invece sono ancillari con dispiacere perché il triangolo di Grocco essendo Grocco di Confienza che è vicino a Novara sarebbe stato interessante ancora cercarlo però effettivamente non ha come? sì non ha più gran che senso quindi quello che dici tu è vero perché su quello che ti perfeziona la capacità semiologico obiettiva con il reperto ecografico perché ti dà la confermo meno che di quello che senti se posso diciamo io e mio padre rappresentiamo un po' questa storia papà è proprio fine semiota eccetera io invece mi sono molto dedicato all'ecografia e insomma concordo anche molto su questo cioè deve essere integrato a quello che fai io mi oriento molto sull'anamnesi e spesso mi oriento più sull'anamnesi e sull'esame obiettivo e poi faccio l'ecografia penso a differenze non voglio parlare del radiologo ecografista dove spesso mandiamo il paziente però la fanno ci stanno sì no sì però scusa se mi posso permettere questo non per spendere cioè ci sono però ecografie che sono ecografie di un livello più alto certo e che non bisogna ecco nemmeno dare il messaggio secondo me che l'internista fa l'ecografia esautora qualunque altro specialista no 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 però deve far parte del percorso cioè e deve cioè secondo me fa parte del percorso della visita ormai era questo ma questo guarda è esattamente così ti porto l'esempio personale io ho iniziato a lavorare in un ex dispensario che era diventato servizio di preemmologia territoriale i colleghi che lavoravano lì non avevano questa impostazione internistica che ho avuto io quando sono stato assunto per cui loro guardavano la radiografia sulla base della radiografia allora io ho introdotto invece di fare la VES allora non la proteina cereattiva lo striscio periferico e la visita allora integravi la visita con la radiografia e la radiografia serviva per confermare quello che tu avevi sentito alcune volte non vedevi il reperto non ecografia sbagliato la radiografia non c'era la taxifa c'era raramente la stratigrafia però quello che sentivi come reperto obiettivo se correlava col quadro clinico febbre sentivi dei ranturi se anche la lastra negativa lo davi come polmonite no? per cui in realtà è proprio quello che dici tu è fondamentale prego prima di sentire Franco Vimercati come presidente dei radiologi e quindi sentire il suo parere quello che avevo detto è che sempre di più i radiologi puri hanno abbandonato l'ecografia perché l'ecografia internistica l'ecografia nefrologica l'ecografia gastroenterologica insomma quella di pronto soccorso sono ormai talmente dominio del clinico che non viene chiesto sostanzialmente di fare l'ecografia al paziente ricoverato quindi l'ecografia per lo più vengono fatte o per motivi diciamo di ambulatorio commerciale dai radiologi puri ma in ospedale diciamo senti un'ecografia facciamo la TAC perché vedi meglio e quindi è un po' questo il cortocircuito questo volevo sapere il tuo parere ormai siamo noi che governiamo l'ecografia poi chiamiamo l'ecografia internistica ecoscopia quello che sia ma credo che sia un po' cambiato il parlamento premesso che la diagnosi la si fa parlando e vedendo il paziente io sono un ecografista e la logica è è il paziente che fa la diagnosi perché basta parlare vedere e capire quali sono i sintomi poi l'ecografia ti serve per affinare i sintomi la differenza io ho portato avanti una battaglia su questo aspetto proprio per evitare che l'ecografia alla fine della fiera vada in mano agli infermieri perché poi c'è un altro problema molto grosso già in mano ai fisioterapisti perché c'erano un apparecchio mettono lì poi da lì fare l'iniezione di cortisone ci metti 30 secondi sotto quel punto di vista quindi io sono ben lieto di dire io sono stato il primo a dire che l'ecografia è un atto medico quindi benvenga che lo faccia l'internista non c'è dubbio sotto questo punto di vista ciò vuol dire non vuol dire che l'ecografia di un livello diverso magari con l'interventistica che gli va dietro poi non stia sul radiologo perché c'è un altro passaggio il radiologo ha delle competenze ha delle multicompetenze per cui con quell'ecografia sa quale valore dare per fare un esame successivo io sono dell'idea che l'ecografia è il primo esame sempre cioè io sono contro il discorso tac a tutti non esiste questo discorso anche perché c'è un altro passaggio molto delicato io vengo dall'esperienza dell'inizio dell'attac l'attac all'inizio era una fetta tre secondi un'altra fetta tre secondi e tu ragionavi e tu ragionavi adesso tu hai in un minuto tutto poi devi collegare il cervello per capire che cosa è il malato cioè se non hai ben chiaro questa cosa qua e molte volte l'ecografia ti aiuta cioè io ho visto casi in cui facendo l'attac poi si consiglia di fare l'ecografia cioè perché è molto più semplice molto di qua e molto di là perché poi ricordiamo l'attac poi deve essere fatta col contrasto il tempo del contrasto il tempo di arrivo ci sono delle condizioni molto particolari per cui io sono ben lieto che vada in mano ai medici ben lieto che vada in mano agli ecografisti e in alcuni casi specifici anche degli specialisti attenzione ad un passaggio che è questo quando c'è stato da cambiare il nomenclatore tariffario a un certo punto io mi sono trovato a dire mettiamo dentro tutto nell'ecografia dell'addome ok l'ecografia non è come la radiologia che lo specialista può solo fare risposte radiologiche l'ecografia sta in mano a tutti quindi se io dico che faccio un'ecografia dell'addome completo la logica è l'addome completo in una prestazione rendicontata non in una ecovisita sono due cose diverse a quel punto io non posso ammettere che il nefrologo non veda che poi c'è un tumore del rene quello lo vede ma non vede il tumore alato dall'altra parte quindi ci sono dei problemi non semplici da portare avanti ma che sia uno strumento utilissimo in mano al medico è in dubbio e che oltretutto apparecchi piccoli le porti in giro ci fai veramente di tutto è veramente un peccato vi lancio un'altra idea il libro è stato fatto io non l'ho ancora visto eccetera abbiamo in questi giorni un'esperienza con dei paesi africani i quali paesi africani non hanno nulla ma in realtà una importanza su questi ecografi portatili io vado in Kenya mi porto un ecografo portatile e fai diagnosi senza problemi sarebbe molto bello adesso vedo come è fatto magari tradurlo in altre lingue per supportare come ecografia l'esame di base laddove l'ecografia in effetti ti può cambiare la vita tu hai un investimento di 5.000 euro ok leggi questo libro cominci a capire eccetera devo vedere come è fatto eccetera e già cominci a far qualcosa che dirà non potresti fare altrimenti perché non c'hai apparecchiatura ideologica non c'è l'attacco non c'è niente ma l'ecografia è importante farla quindi pensate anche a questa variante guarda ti dico l'abbiamo già fatta questa esperienza con un nostro associato che fa del volontariato gli abbiamo regalato nel sud Sudan la Fadoi ha regalato uno di questi ecografi portatili e lui anche ha pubblicato un lavoro sull'Italia Angelo della Fultrasound adesso non mi ricordo di preciso sulla tubercolosi è bellissimo tra l'altro proprio perché ecco in una situazione di estrema povertà come quella avere la possibilità anche di un ecografo non avevano neanche la possibilità di fare una radiografia di un segmento osseo quindi gli abbiamo regalato come società scientifica nel 2019 18-19 questo ecografo e che in realtà ha cambiato radicalmente il modo di lavorare l'ecografia tranne un organo non vede che è l'osso esatto però in realtà se tu lo usi con granus salis vedi l'interruzione della linea e quindi puoi dire che c'è una frattura per cui puoi fare di angelo di frattura a parte la clinica ma anche vedendola quindi io dico questo è un meccanismo da portare avanti quindi il discorso però perché io dicevo il libro perché o tu vai là agli insegni ma per capire hanno mentalità diverse analogiche diverse ma un libro magari nella loro lingua che spieghi in modo semplice che cosa devono vederlo può dare un grosso aiuto con l'ecografo piccolo portatile io volevo un attimo così puntualizzare quello che noi abbiamo cercato di sottolineare è stato proprio il fatto dell'esame clinico ecografico integrato dove clinico viene prima di ecografico questo è fondamentale cioè l'ecografia ti deve dare quel qualcosa in più che l'esame clinico non è riuscito a darti ma se già ce l'hai il problema non si pone quindi è in quest'ottica visto chiaramente questo non può questo serve più che altro anche nei nostri reparti pensiamo per esempio ai reparti di pronto soccorso dove praticamente altrimenti quale sarebbe l'iter vedi il paziente lo visiti hai un dubbio lo mandi in radiologia a fare l'esame e non lo fai su molte volte non lo fai su perché se non è urgenza devi aspettare ritorna ma devi rivedere devi rifare di nuovo l'iter mentre invece in quel momento lo vedi lo valuti fai l'ecografia e quindi riesci già non dico a fare diagnosi ma comunque a indirizzare a indirizzare l'iter di diagnosi è un guadagno di tempo non indifferente io penso che questo cioè la posizione deve essere questa è quella che i nostri colleghi anglosassoni chiama il point of care o la io preferisco chiama la diciamo così quella la bad side cioè quella che fai che fai proprio al letto del malato ecco è questo allora ci sarebbero e poi magari chiudiamo però ci sono tre domande arrivate sul tablet che mi sembra anche per correttezza verso chi l'ha fatte anche se siamo un pochino in ritardo di rispondere la prima è chiede come ritenete debba essere certificata la competenza ecografica dell'internista in un periodo in cui esistono diffuse competenze interdisciplinarie ecografiche ma qui mi fai un assist perché tu insieme a me hai cioè il problema è che non esiste non esiste una specializzazione perché abbiamo qui il professor non esiste una specializzazione in ecografia questa è una stata questio che risale a tanti anni fa quindi il problema ecco lì ecco l'invito che riportavo prima di Solomon che aveva pubblicato sul New England cioè secondo me c'è forse un ritardo di chi è delegato alla istruzione che dovrebbe in qualche modo sanare questo ritardo e cercare di mettere nel curriculum proprio la formazione ecografica nello studente di medicina oltre che nello specializzato per il momento ci sono le società scientifiche che hanno cercato di fare qualcosa la prima è stata la SIUM la società italiana di ultrasoni e noi abbiamo cercato anche con la scuola di ecografia di fare questo modello che cos'è è una patente assolutamente no è un qualcosa che poi rientra nel tuo curriculum che in qualche modo con la prima parte di formazione teorica e poi con quella pratica ti indirizza con delle basi a quella che poi sarà un'esperienza che tu dovrai coltivare sul campo fondamentalmente certo poi c'è un'altra domanda che chiede è un testo adeguato a specialisti forse se questo è già stato un po' detto oppure è piuttosto indicato a chi si approccia all'inizio degli studi della semiotica Mauro vuoi rispondere ma direi che vale per tutti nel senso che in realtà vale per gli studenti come è stato già detto da Francesco e anche da te vale nel percorso di studi nel percorso di specializzazione e poi chiaramente come tutti come tutti tutto quello tutte quelle che sono le competenze mediche vanno coltivate vanno coltivate e quindi è chiaro che è un testo che secondo me si distribuisce in maniera uniforme chi di noi non ha mai ricontrollato un testo non ha mai ripreso non so il Dio Guardi Sanna per avere no? perché comunque lo gli ripeto quindi vale sostanzialmente in maniera diversa nel senso che uno ne fa un uso diverso secondo di che fase della sua formazione medico della sua formazione post laurea ma penso che si distribuisca in maniera uniforme e poi domanda fondamentale dove si può trovare il libro? il libro allora ho scoperto ieri non lo sapevo che è uscito anche l'ebook sì non lo sapevo c'è sia in versione cartacea che in versione elettronica il costo il costo è di 80 euro per la cartacea di 50 credo per l'elettronica se non ho capito male però credo che perlomeno la cartacea c'è un prezzo per i soci fadoi ecco per i soci fadoi c'è una promozione appunto dove a 40 cioè al 50% quindi però se uno ora lo vuole comprare dove lo trova? casa editrice edra a Milano quindi nelle librerie sì ma è solo sì sì ma comunque è su ma si ordina online si può ordinare online tanto che a me è arrivato prima il messaggio dell'edra che era pubblicato online esiste la versione diciamo elettronica elettronica e la cartacea e quindi si può ordinare in questo modo ecco no perché ok per cominciare ad avere un successo bisogna dare giustamente le indicazioni io direi che si può chiudere qui questo pomeriggio intenso è veramente significativo e ci ha rivisto tornare in questa sala dove effettivamente qui era tanti anni non ci si veniva perché l'ultima volta eravamo alla fortezza ma questa sala ha sempre un suo fascino a mio avviso anche rispetto alla fortezza onestamente che non è paragonabile e quindi vi auguro a tutti una buona serata e un buon proseguimento del congresso mauro grazie a tutti